E' un vaccino che non dà particolari effetti collaterali. E' un vaccino che non dà particolari effetti collaterali. 21 e 19 la prendiamo un po' sempre così alla leggera per sdrammatizzare, serve un po' anche sdrammatizzare. In questi tempi bui potrebbero essere anche questi gli effetti collaterali. A volte si dice che i vaccini provochino delle conseguenze tremende, decessi eccetera, però si è visto e domani risponderà su questo lema, che pare che non ci siano correlazioni tra vaccinazioni ed eccessi o altri effetti, tra cui anche trombosi, cose anche non di lieve conto. Ma insomma cerchiamo di stare con i piedi per terra, di pensare soprattutto a vaccinarci tutti, dal primo all'ultimo, perché è l'unica soluzione possibile rispettando i nostri turni. I turni che sono stati fissati dell'età dopo aver vaccinato soprattutto tutti coloro che sono più vulnerabili. Vedete questa sera abbiamo per la prima volta a Focus la traduzione simultanea per i non udenti, grazie in questo caso a Chiara Sipione, interprete della LIS, la lingua dei segni, e quindi siamo felici per una volta di poter essere capiti anche dalle persone che non possono ascoltare l'audio. e la lingua dei segni, come si vede ogni mattina al punto stampa del Presidente Zaia, ha assunto un'importanza fondamentale nella comunicazione e ne parleremo. Ne parleremo e grazie a Chiara Sipione che tradurrà tutta questa puntata. Allora aspettiamo i vostri sms, i vostri whatsapp, mandateceli come sempre, potete esprimere le vostre opinioni liberamente, abbiamo titolato tutti vaccinati, poi all'assalto per l'autonomia, cioè una volta che saremo tutti vaccinati non è che ci siamo messi via la questione dell'autonomia. Oggi la Ministra Gelmini è stata a Trieste e ha detto che parlerà presto col Presidente Zaia, ha detto che si andrà avanti per arrivare ad una svolta, insomma speriamo in bene dopo 1.242 giorni da referendum del 22 ottobre del 2017. Forse sto andando un po' troppo veloce, mi scuso con Chiara Sipione e con voi che ci seguite. Allora intanto presento gli ospiti che sono qui in studio, Leopoldo Bottero del Patto per l'Autonomia, buonasera Bottero, grazie a Diego Cancianna per Fratelli d'Italia, buonasera, bentornato, Maurizio Conte per Forza Italia, buonasera. Buonasera direttore, grazie. Buonasera Conte, bentornato, saluto e ringrazio Rita Sala che è docente della LIS e rappresentante dell'ANIOS che è l'associazione proprio della lingua dei segni, ne parleremo, parleremo della vostra attività fondamentale. Grazie a Giovanna Zucca, infermiere e iscrittrice, è già stata focus, ha già scritto molti libri, molti gialli anche dei best seller e abbiamo collegato, credo, forse l'abbiamo già collegato da Padova, Alain Luciani, consigliere comunale della Lega. Buonasera Luciani, grazie anche a lei. Buonasera a tutti. Grazie molte anche a lei. Allora, ovviamente, non traduciamo anche i servizi perché sennò diventerà, credo che diventi troppo impegnativo, vediamo il servizio e poi intanto vi diciamo in pratica che cosa è stato detto. Servizio del Presidente Zaia questa mattina al punto stampa di Marghera, vediamo. 499 pazienti in totale presenti nelle terapie intensive del Veneto. Continuo a dire che 499 vuole significare che se fossimo ante modifica delle terapie intensive noi avremo già pazienti da terapie intensive da portare fuori a regione. Il virus ha ripreso a correre e ad allarmare sono soprattutto i dati dei ricoveri in area non critica ma soprattutto in terapia intensiva. Non nasconde la preoccupazione il Presidente del Veneto. I modelli previsionali indicano che rischiamo di arrivare a 300 persone in terapia intensiva per il Covid a fine marzo, proprio come un anno fa. L'altra preoccupazione è quella per la campagna vaccinale con lo stop al vaccino AstraZeneca. Ieri sono state fatte oltre 11.900 vaccinazioni con Pfizer e Moderna, quasi altrettante sono state bloccate. Se dovessi dire on-off, noi abbiamo perso 10.000 vaccini al giorno. 10.000 iniezioni che saranno fatte anche 50-50, saranno 5.000 prime dose, 5.000 richiami, roba del genere. Per noi pesa molto questa partita. Mentre si attende la decisione dell'EMA sul vaccino di Oxford, si allontana l'obiettivo di immunizzare prima dell'estate, almeno con la prima dose, tutti i veneti. Io direi che ce la dobbiamo fare, resta l'obiettivo, quantomeno per la popolazione target, che per noi è quella degli over, diciamo over 70. Potrebbe essere già una grande sfida. Nel frattempo è stato chiuso l'accordo per l'utilizzo dei medici specializzandi nella campagna vaccinale. Circa 1.350, tra l'Università di Padova e quella di Verona, hanno dato la propria disponibilità. Che prevede quindi l'impiego dei specializzandi dal primo anno in su, fuori dall'orario dei corsi della formazione. Quindi noi pensiamo che potrebbero essere utilizzati il sabato, il domenico, o comunque durante le ore serali. Questo era l'assessore Lanzarin, servizio di Marta Marangon. Vediamo il gazzettino che riprende il punto stampa di stamane. Vaccini avvisi agli anziani, ha detto Zaia stamattina, verifica in corso, pronto un piano per i pazienti fragili, ricoveri siamo come a marzo del 2020. I dati in effetti in tutta Italia sono preoccupanti. Allora, Maurizio Conte, insomma, tutti i vaccinati è ormai un dovere collettivo, no? Direi, cioè è l'unica strada che si può percorrere per uscire da questo incubo. Altri paesi come la Gran Bretagna hanno vaccinato già 25 milioni di persone, la metà con AstraZeneca, peraltro non ci sono stati problemi seri, no? Beh, è chiaro che il vaccino in questo momento è la priorità. Poi c'è chi non vuole vaccinarsi, sappiamo che il vaccino non è obbligatorio. Però una scelta che ognuno fa, soprattutto per una tutela non solo personale, ma anche di una comunità che ha bisogno di dare una risposta immediata a quello che è il contenimento del rischio del contagio. Questo rimane e rimane soprattutto anche nella necessità di quei comportamenti che devono in qualche maniera rispettare delle minime regole, soprattutto nell'ambito appunto dei rapporti pubblici. E purtroppo abbiamo visto che siamo tornati in zona rossa e c'è necessità quindi di limitare il più possibile quelli che sono i contatti non necessari. Però un passo in avanti è stato fatto oggi dal Friuli, insieme al Ministro Gelmini è stato firmato un accordo che va a dare priorità alla vaccinazione all'interno delle attività produttive. E questo secondo me è il punto essenziale in questo momento. Abbiamo puntato sulla vaccinazione degli over 80 di quella fascia soprattutto più debole soprattutto all'interno delle case di riposo, però in questo momento serve dare priorità a garantire chi lavora, a quello che è il mondo produttivo, al mondo dei lavoratori, a quell'economia che non possiamo fermare. E quindi secondo me in questo momento bisogna veramente mettere in atto un piano che dia questa priorità e ben venga quell'accordo che ha fatto il Friuli, spero che anche in Veneto il Presidente Zaia dia questa priorità perché non possiamo fermare l'economia, non possiamo bloccare quello che poi è essenziale soprattutto nel superamento dell'emergenza sanitaria. Quindi questo aspetto è fondamentale, ben ha fatto la Ministra Gelmini a dare quel supporto importante anche a livello governativo, penso che questo deve anche essere lo spirito diverso di un governo nuovo che in qualche maniera deve dare anche stimoli nuovi, ben venga soprattutto quella che poi è la produzione dei vaccini in Italia. Abbiamo riconvertito tante attività per fare mascherine, noi abbiamo eccellenza nell'ambito della ricerca farmaceutica in quelle che sono le case farmaceutiche, quindi livelli anche importanti a livello nazionale, sfruttiamoli e questo deve essere anche l'impegno di un governo che deve dare una priorità di accordi con chi ha i brevetti di questi vaccini per iniziare una produzione che garantisca l'autosufficienza a livello nazionale. Infatti vediamo il titolo del gazzettino, il vaccino in fabbrica, firmato il protocollo ufficiale, ecco come potrà partire, ha parlato anche il Presidente, anche perché poi è molto più agevole per tutti coloro che lavorano in azienda essere vaccinati sul posto senza dover andare nei vaccini point o nelle USMA direttamente all'interno delle loro aziende. Allora, vediamo, non so se avevamo un servizio, no, andiamo da Leopoldo Bottero, dopo però aver visto Fabrizio, ecco questo forse potevamo, appunto lo facciamo adesso, diamo al Ministro Gelmini, visto che è stato citato il Ministro, la Ministra Gelmini da Maurizio Conte oggi a Trieste ha parlato di autonomia ed è uno degli elementi, dei due elementi che abbiamo messo oggi nel titolo, vediamo. Da Trieste dove ha presenziato l'accordo per i vaccini in fabbrica, il Ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, ha ribadito che l'istanza di autonomia del Veneto è un tema d'attualità su cui si sta già lavorando. Rispondo a quello che ho già detto in Commissione sulle questioni regionali dove ho anticipato la disponibilità intanto ad un confronto con il Presidente Zaia sul tema dell'autonomia del Veneto e devo dire che qualche confronto l'ho già avuto. Non si tratta di ripartire da zero, è tornata a sottolineare Gelmini, ma di procedere su un solco già tracciato. Penso che sia utile non buttare il lavoro fatto dal mio predecessore, quindi il Ministro Boccia aveva già raggiunto un buon grado di condivisione su una legge quadro sull'autonomia, quindi ritengo che si debba valorizzare questo lavoro già compiuto e si debba andare avanti. Si va dunque avanti e il Ministro dimostra l'intenzione di farlo celermente. Di a breve sicuramente incontrerò il Presidente Zaia e ci sarà modo di ragionare insieme anche di come procedere una volta approvata questa legge quadro. Appunto ha citato il Ministro Boccia e prima di Boccia c'era il Ministro Erika Stefani. Allora Leopoldo Bottero, ovviamente la priorità è la salute, la pandemia, la sconfitta del Covid, poi però bisogna tornare in mimetica, ha detto il Presidente Zaia, perché bisogna arrivarci all'autonomia. Voi del patto per l'autonomia avete anche abbinato l'autonomia all'ambiente? Diciamo che il primo problema politico a livello mondiale è l'ambiente, perché se non avremo un ambiente in cui vivere tutto il resto è tempo perso, quindi qualsiasi partito credo, una volta era una roba da pazzi non parlare di ambiente, di rispetto, era quasi una roba chic, adesso abbiamo capito che è un modo per sopravvivere, quindi il primo punto che ha il patto per l'autonomia è l'ambiente. Noi aderiamo a un movimento nazionale che adesso siamo una decina di movimenti locali che si chiama Autonomie e Ambiente, cioè vogliamo rispettare tutte le autonomie di tutte le componenti dell'Italia, abbiamo una visione europeista del nostro mondo, sempre nel rispetto delle autonomie di tutti i padroni a casa sua. E posso approfittare per fare uno spot gratuito, venerdì sera e sabato pomeriggio c'è un convegno online, voi cercate autonomie e ambiente e vedrete quali sono i movimenti che partecipano e potrete anche sentire tutta una serie di contributi. Noi pensiamo che il modo migliore per organizzare il mondo sia rispettare il principio della sussidiarietà, l'autonomia ha anche una valenza morale perché ci sono delle differenze nelle diverse regioni e vanno rispettate tutte quante, io dico sempre quando facevo il militare il 2 di giugno alle ore 14 si scattava come se l'estate, quindi alle mattine si usciva con la giacca di lana, alle 2 si andava fuori in maniche corte, sia a Merano dove nevicava sia a Palermo dove erano due mesi che andavano al mare, questo qui la dice lunga sulla necessità. Poi guardate io mi occupo di organizzazione aziendale e la prima cosa che si dice a chi ha più di una sede è dare il massimo di autonomia, altrimenti tutte le sedi staccate il mattino vanno alla sede centrale a prendersi la carta igienica, se non si dà autonomia. L'altra cosa, qui alla mia sinistra ci sono degli amici che sono di altri partiti, però sulla questione dell'autonomia il Veneto deve fare quadrato e stiamo cercando di farlo perché io non è che penso all'autonomia contro qualche altro partito, penso all'autonomia per i Veneti, penso all'autonomia per i Siciliani, penso all'autonomia per i Lombardi, cioè tutto quello che si fa a livello locale di solito funziona a costi minori e meglio e in ogni caso si scatena anche una competizione. Dico solo una cosa che pochi la sanno perché a volte si parla perché si ha la bocca, a Bolzano non vanno più soldi che nelle altre regioni, Bolzano riceve i soldi per i servizi corrispondenti che avrebbe speso lo Stato e contribuisce pro capite allo Stato più del Veneto, cioè noi andiamo molti miliardi allo Stato di residuo fiscale, ma pro capite la provincia autonoma di Bolzano contribuisce di più, quindi danno soldi perché con i soldi spesi localmente funziona tutto meglio, pagano di più gli insegnanti, la burocrazia funziona meglio, ci sono più aiuti, sono più vicini ai cittadini come istituzioni e così via, quindi questo è tutto, vi invito a vedere il nostro convegno Autonomia e Ambiente e vogliamo costruire l'autonomia con tutti e per tutti. Questo è il messaggio. Allora, sono le 21.35, qualcuno ha scritto ci si può spostare per problemi di, mi pare, scuola lavoro. Cos'era, scolastici? Scuola lavoro. Scuola lavoro, beh, come sapete basta l'autocertificazione anche in zona rossa, dicendo se per motivi di lavoro, di salute o di necessità lo si può fare, ovviamente bisogna non dire il falso perché altrimenti si può essere perseguibili anche dal punto di vista penale. Allora, torniamo ai vaccini, vediamo il punto vaccini in fiera a Padova, Fabrizio, perché in attesa che domani l'EMA risponda e al 9 su 10 risponderà che si può andare avanti, questo è già stato detto, è stato già fatto capire oggi da diverse fonti, in attesa dello sblocco dell'AstraZeneca, si sta andando avanti con gli altri vaccini. Vediamo. Seppur rallentata, non si ferma la somministrazione delle prime e seconde dosi di vaccino Pfizer-BioNTech e Moderna, soprattutto a persone anziane e operatori sanitari. In fiera a Padova l'attività vaccinale prosegue con 2.443 vaccini anche nella giornata di martedì. Vaccini che a fine giornata non avanzano e quando succede sono poche le unità disponibili che l'Ulssia Euganea distribuisce ai cosiddetti galleggianti. Allora, noi di solito chiudiamo a zero, però se dovesse rimanere una o due dosi, o anche tre, abbiamo una lista di persone che non sono state chiamate o perché non hanno ricevuto l'invito, o perché magari erano in ospedale o altri problemi e naturalmente poi li chiamiamo. Quindi di fatto non rimane nulla. Categorie precise, operatori sanitari, forze dell'ordine, persone fragili nel rigido rispetto delle ordinanze ministeriali e degli ordini di priorità stabiliti dalla Regione. insomma, le code e i cancelli, che per fortuna non si sono registrati in questi giorni, nella speranza di avere una dose di vaccino, sono perfettamente inutili. Il lavoro, sperando nella disponibilità di Sieri, va quindi avanti, si continua, la vaccinazione degli anziani e dal 22 marzo si dovrebbe partire con l'anno di nascita 1938, si continua con la somministrazione delle seconde dosi e in parte minoritaria con i pazienti vulnerabili. Servizio di Francesco Ratai. Allora, Chiara Sipione sta traducendo con la lingua dei segni, vedete lei e tante sue colleghe al punto stampa, ma la lingua dei segni, dottoressa Sala, viene utilizzata da molti anni in tanti ambiti, per esempio anche quello dei tribunali, nei convegni, nelle manifestazioni nei grandi eventi, negli ospedali ovviamente, però non è stata finora riconosciuta, come mai? Cioè rispetto ad altri paesi qui, come al solito, come mai? Siamo il fanalino di coda dell'Europa, siamo il fanalino di coda dell'Europa, gli ultimi saranno i primi, si diceva, però noi siamo ancora gli ultimi, non siamo diventati i primi. C'è una convenzione ONU del 2006 ratificata dall'Italia nel 2009 che chiede il riconoscimento della lingua dei segni e l'Italia ancora su questo è latitante per vari motivi, perché il processo di richiesta di un riconoscimento legislativo decade quando un governo decade e quindi bisogna ricominciare da capo e noi diciamo che non abbiamo questa, abbiamo dei governi un po' troppo brevi a volte, questo ha bloccato. Per esempio, vedevo i ministri per l'autonomia in tre anni ne hanno cambiati tre, la Stefani Boccia e adesso la Gelmini. Quindi insomma siamo un po' in ritardo, senza entrare in una serie di modalità un po' all'italiana, c'è anche una questione probabilmente ideologica, ci sono tutta una serie di altre questioni che entrano in gioco, certo è che il mancato riconoscimento della lingua dei segni in Italia porta a ritardo in altri riconoscimenti, perché come diceva lei l'accessibilità attraverso le lingue dei segni è un diritto, è un diritto riconosciuto da una convenzione ONU che ha diritto legislativo in Italia, è ratificato, c'è una legge veneta della regione Veneto del 2018, la numero 11, che riconosce la lingua dei segni e la lingua dei segni tatele, cioè certo a livello locale, noi siamo interpreti di lingua dei segni e la traduciamo come diceva lei in tantissimi settori, anche molto delicati come il tribunale, come le situazioni ospedaliere, poi ci sono i convegni, i congressi, ma diciamo che andiamo presso i notari, per gli atti notarili che rischiano di essere invalidati se non è presente l'interprete, quindi è un diritto di accessibilità che hanno le persone sorde all'informazione, alla possibilità di poter accedere nelle varie modalità che ci sono, perché c'è la lingua, ci sono i sottotitoli, quindi la lingua italiana attraverso i sottotitoli e la lingua dei segni, viviamo in una situazione in cui di solito è oh oh, invece no, accessibilità è a tutto campo, quindi accessibilità vuol dire dare la possibilità all'altro di scegliere qual è il modo migliore e noi come interpreti lo attiviamo attraverso la lingua dei segni, che è una vera lingua, che è quindi riconosciuta come tale da ormai molti anni, esiste da sempre, ne parla Socrate, quindi Platone nel Cratilo, quindi esiste da sempre, ha avuto uno stop molto importante alla fine del 1800 perché è stata proibita nelle scuole e invece alla fine del 1900 la ricerca ha permesso di recuperare questa lingua di dare un riconoscimento alla comunità sorda segnante, quindi bilingue, perché usa sia l'italiano che la lingua dei segni, che chiede di poter accedere chiedendo agli altri, a noi, di andare incontro a loro, perché la lettura labiale è complicata, immaginiamoci adesso con la mascherina, le difficoltà che stanno vivendo le persone sorde da un anno a questa parte, è enorme, perché se prima nel quotidiano il labiale poteva dare la possibilità di comunicare, adesso neanche al supermercato possono leggere il labiale ed è veramente di una gravità enorme. Le interpreti dovrebbero essere una categoria a rischio perché sono sempre senza mascherina, vicino a persone che sono molto ben protette. Noi infatti in quest'ultimo anno abbiamo cercato di traslare il nostro lavoro da remoto, dove almeno uno dei due componenti, e non aveva la mascherina, quindi noi lavorando da casa, ma non è sempre possibile, in ambito ospedaliero ci sono visite, ci sono tutta una serie di questioni in cui è necessaria la presenza. Certo è che quando si parla di non stare senza mascherina diciamo che il problema non è delle persone sorde, semmai è di tutte le altre persone in cui entrano in contatto, quindi semmai la mascherina non dovrebbero portarla o dovrebbero averla trasparente, tutti gli operatori, almeno pubblici, sanitari, invece è proprio lì che si scontra la difficoltà. Ecco, poi vedremo anche che si tratta di un lavoro prettamente femminile, mi sembra il 70% delle interpreti sono ragazzi, sono donne. Una ricerca di qualche anno fa che ha condotto la nostra associazione ha riscontrato che più del 70% è composto da donne, è un lavoro che riguarda la comunicazione, quindi bene o male la percentuale femminile è sempre molto alta, il 50% dei professionisti ha un titolo di laurea o equiparato, quindi è una professione che vede una grande anche livello culturale che andrebbe riconosciuto e il riconoscimento della professione passa anche attraverso il riconoscimento della lingua dei segni. C'è una legge europea che lo chiede, è una direttiva europea e anche lì abbiamo un solo corso di laurea in Italia avviato nel Veneto da Ca' Foscari quest'anno, la laurea magistrale in interpretazione ma finora anche lì, Fanalino de Coda non avevamo altri corsi di laurea. Allora, forse c'è un solo personaggio che non ha bisogno di interpreti, si fa per dire, ma lo si capisce molto bene in qualsiasi sua manifestazione, l'ex sindaco di Treviso, lo sceriffo Giancarlo Gentilini che si è vaccinato, complimenti sindaco, vediamo. Sono rimasto veramente soddisfatto di questa operazione sanitaria relativa alla vaccinazione, ma quello che mi ha colpito di più è stata la competenza e la gentilezza di tutti gli operatori. La campagna vaccinale continua con gli ultraottantenni, Giancarlo Gentilini classe 29 è stato vaccinato, tutto è andato bene e secondo programma, anche se un sassolino dalla scarpa, l'ex sindaco di Treviso vuole toglierselo nei confronti dei suoi coetanei, troppo ansiosi forse di farsi somministrare il siero. Però una cosa devo dire che non mi è piaciuta, c'è stata troppa una ressa al di fuori dei locali e sapete perché? Perché tantissimi si sono presentati un'ora prima dell'appuntamento e quindi si è generata un po' di confusione e non hanno certamente ubbidito quello che diceva Benassi, trovatevi alcuni minuti prima del tempo per non intracciare il traffico. Infine Gentilini si rivolge a tutti per un appello alla vaccinazione per proteggere se stessi e le persone che amiamo di più. Ricordatevi che l'unica ancora di salvezza è la vaccinazione, quindi tutto il popolo italiano deve vaccinarsi costi quello che costi. Servizio di Nicola Marcato, Gentilini in pratica ha lanciato un appello, ha detto che bisogna vaccinarsi tutti, costi quello che costi. Vediamo nessuno, nemmeno il commissario Montalbano può sottrarsi al Covid, Luca Zingaretti dimesso dall'ospedale, grazie a tutti, torno a casa. Tantissimi propri personaggi della televisione, dello spettacolo che hanno contratto l'infezione. Andiamo da Alain Luciani, esponente della Lega a Padova, di nuovo buonasera e grazie Luciani. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Lei a parte la politica lavora nel campo dell'informatica, ovviamente con l'uso diffusissimo del remoto, dei collegamenti online come anche facciamo noi in televisione, immagino che sia un mercato che ha subito o non ha subito la contrazione che hanno subito altre attività? Beh, è chiaro che tutto la DAD, quindi la didattica a distanza, il lavoro tradizionale, è praticamente quasi tutto passato attraverso l'informatica, i computer, eccetera. Quindi se nella prima fase, quindi da marzo a giugno, diciamo, ecco, dell'anno scorso, c'è stato un incremento importante del lavoro, delle richieste alle quali si è fatta anche fatica a far fronte, oggi ci troviamo in realtà dalla parte opposta, nel senso che la domanda rimane, rimane sempre molto alta, ma non c'è più prodotto da poter vendere. Quindi fondamentalmente il nostro settore in questo momento sta subendo una contrazione fortissima perché non solo non sono disponibili prodotti informatici a un costo accettabile per le famiglie, perché non è che tutti hanno un sacco di soldi da poter mettere sul computer per i figli, o magari, come mi è successo oggi, una signora che ha tre figli, che devono seguire appunto le lezioni, fai fatica a comprare tre computer in una famiglia per tre figli. E poi c'è la questione dei prezzi che sono andati alle stelle, quindi la Cina, come qualcuno ha soprannominato il Cina virus, oggi sta purtroppo in realtà approfittando un po' della situazione perché i prezzi dell'informatica sono andati alle stelle, ma non è che lo dico io, basta vedere i semplici volantini che arrivano dalla grande distribuzione a casa dove si scopre che un computer, mentre un anno fa con 300 euro potevi comprarti anche un computerino modesto, però c'è, avevi un computer, oggi non spendi meno di 600-700 euro, e quindi hanno avuto un incremento molto molto grosso. In più c'è il problema anche della materia prima, perché è talmente tanta domanda che in questo momento se è tutto, scarseggia tutto, per cui scarseggiano i processori, che sono il componente principale dei computer, ma non solo, e scarseggia proprio la materia prima, per cui il silicio stesso non si riesce ad averne quantità sufficienti per i produttori per poter produrre. Oltretutto mi dicevano i grandi produttori che oggi la merce non viaggia quasi più nulla attraverso nave, ma viaggia tutto attraverso aereo, e nei carchi c'è lo spazio che c'è, per cui il numero di aerei non è sicuramente sufficiente per far fronte, e quindi è chiaro che anche lì si riesce ad avere molto meno merce e evadere molto meno le commesse e le richieste. E quindi è una situazione un po' difficile, pensi al direttore che io ho ricevuto una stampante l'altro giorno che avevo ordinato ad aprile dell'anno scorso, nemmeno mi ricordavo di averla più ordinata, ecco per dire, quindi un anno per avere una stampante, immaginatevi che cosa significa tutto ornesto. Se posso fare solo un accenno al discorso della lingua dei segni? Sì, sì, certo. Perché io quando, già nel 2016, ben prima del Covid, quindi avevo già immaginato, siccome avevo la delega anche all'URP, quindi all'ufficio, no, a relazione col pubblico, avevo già immaginato all'epoca, e quindi avevo già quasi attivato, poi purtroppo la nostra amministrazione è stata interrotta, un servizio proprio online per chi si recava all'ufficio informazioni del comune di Padova e con un semplice ticket ci si collegava con una persona in grado di poter colloquiare e spiegare per le persone appunto non udenti. E io ritengo che sia un servizio fondamentale che tutti, almeno i grandi comuni nella fase iniziale, un servizio che si potrebbe oggi grazie a tecnologia attivare e dare quindi la possibilità di fare il famoso lavoro attraverso il computer, ma anche dare un buon servizio all'utente finale che si reca appunto ad esempio in comune all'URP. E quindi io spero che questa sensibilità e questi servizi, insomma con l'aiuto della tecnologia, si possano espandere quanto più possibile. Allora, volevo chiederle ancora Luciani, dal suo osservatorio a Padova, rispetto a chi teme di avere problemi col vaccino AstraZeneca o comunque è scettico sulla validità e l'efficacia dei vaccini, che cosa ci può dire? Cioè che riscontri ha avuto rispetto a questa parte? Io purtroppo, direttore, sono sincero, riscontro tante persone che sono scettiche, ma un po' le capisco anche da un certo punto di vista. Purtroppo, non so se è colpa, non voglio dare colpa, per carità, alla comunicazione, però quando accade che c'è una persona che sembrerebbe che sta poco bene, ha dovuto subito dopo un vaccino, si è un po' enfatizzato a questo aspetto, dopo il vaccino si è sentito male. Io oggi, quasi per scherzo, ho fatto un post in cui ho detto riflettete bene su questi numeri. Il 99,99% periodico, ok, dopo il vaccino non gli accade assolutamente nulla. Ecco, sempre bello a volte che si invertissero queste notizie perché mi pare che la gente lega troppo spesso solo i titoli, ma non per cattiveria, un po' per pigrizia, un po' per... E si soffermi solo sulla notizia negativa, cioè di quell'unico caso magari che può avere anche dato qualche dubbio, per carità. E valutate anche bene se l'EMA ha deciso di sospendere. Significa che ci tiene a noi, cioè ci tiene a noi cittadini. Per cui, pur avendo la minima, minimissima sensazione che poteva esserci qualcosa che non andava, vanno immediatamente a sospeso. Quindi siamo in buone mani cittadini, cioè non abbiate sempre paura che ci sia chissà cosa dietro. Abbiamo fatto decine di vaccini quando eravamo bimbi, siamo cresciuti, siamo sani. Dopo, se ci sarà un caso su un milione che accade qualcosa, viva Dio, cioè questo accade su ogni cosa, anche con una taccheterina, eh, ci sono... Avete mai letto le controindicazioni? Ecco, per cui io invito i cittadini a non soffermarsi su quelle uniche notizie che possono sembrare negative, ma guardare al 99,99% periodico a cui non gli accade assolutamente nulla. Diceva ieri sera il professor Tirelli che ogni giorno in Italia muoiono decimila persone. Si può mai immaginare che tra queste diecimila persone non ce ne sia una magari che si è vaccinata e che muore, sarebbe comunque deceduta? No, no, quindi non è detto che se uno muore dopo il vaccino sia morto a causa del vaccino. Domani Lema risponderà in questo senso. Allora, andiamo, vediamo i vicentini, quali sono le loro attese in vista della Pasqua. Molti sperano che si cambi il colore, che si passi di nuovo dal rosso all'arancione o al giallo. Lo vediamo. Hai la speranza dopo Pasqua di tornare finalmente, diciamo, almeno arancio o gialli? Gialli spero, più che altro, perché sì, sia un po' più pesante adesso la situazione, quindi sì, un po'. Speriamo nei vaccini che ci siano i numeri che riesca ad andare avanti. Io spero almeno arancio, però si vedrà, non si sa nulla al momento. Spero che potremo almeno uscire a farci una passeggiata senza doverci portare l'autocertificazione sempre dietro. Bisogna essere ottimisti, penso di sì. Io penso che ritorneremo arancioni perché la gente starà dentro, dopodiché quando saremo arancioni la gente comincerà a uscire e ci sarà sempre questa oscillazione continua. Ma a stretto giro torniamo arancioni o gialli? A stretto giro no, credo di no. Credo purtroppo di no, bisogna che abbiamo pazienza, che rispettiamo le regole. Sì dai, siamo ottimisti, siamo ottimisti. Arancione almeno. Almeno arancione, sì. Non credo, magari arancione sì, ma non di più. Spero, anche perché è un bambino piccolo, quindi spero vivamente che lui possa tornare a scuola, ecco, quindi però la vedo dura perché finché le persone continuano a comportarsi così, fregandosene di tutto e di tutti, temo che rimarremo in zona rossa per un bel po'. Quando vedi anche tu ti capita di trovare gente così anche qua a Vicenza? Ah sì sì, gente che cammina senza mascherina, poi quando li riprendi ti dicono beh se ha paura resti a casa signora. Ecco, però allora lo vanno a dire a mio figlio perché è chiusa la scuola. Servizio Gabriella Basso, allora Giovanna Zucca, infermiera scrittrice, tra i tanti libri che ha scritto c'è anche Assassino Alichea, no, Delitto Alichea, no? Assassino Alichea. Assassino Alichea, Assassino Alichea. Senta, da cui peraltro insomma si sta parlando di trarre delle fiction, insomma quindi è una serie davvero veneta, targata veneto, molto letta, molto seguita. Senta signora Zucca, lei rispetto a quello che sta accadendo, cioè rispetto a persone che saltano la vaccinazione, alla ricerca dei cosiddetti riservisti, cioè coloro che all'ultimo momento sono disponibili a farsi vaccinare al posto di chi non ha potuto o non ha voluto somministrarsi il vaccino, lei cosa, anche come infermiera che cosa ci dice? Dico questo che è umana e comprensibile la paura, è umano perché è torno al discorso della comunicazione e della lingua, qua abbiamo due dottoresse interpreti che ci stanno facendo capire anche stasera quanto è importante per noi la comunicazione. Noi siamo gli unici esseri viventi che comunicano, il linguaggio è la nostra caratteristica fondamentale che ci distingue da tutti gli altri. Allora, secondo me qualcosa di responsabilità rispetto anche al fatto che serpeggia questa paura, questo sospetto, questa malfidenza rispetto a dei vaccini che, viva Dio, sono cento anni che ormai sono nell'ordine delle cose, nessuno di noi si è mai posto il problema dovendo fare una terapia salvavita soprattutto, di dire no ma io vado a vedere perché c'è stato quel caso, questa cosa si sta verificando solo in questo frangente. E credo che sia dovuto all'eccessiva informazione, non sempre all'altezza, che è stata veicolata attraverso tantissimi canali. Ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, forse sui social, che se la penicelina fosse stata inventata ai tempi dei social saremmo morti tutti, perché non ci sarebbe stato nulla di quello che c'è stato dopo. Rispetto alla sua domanda, ma per fortuna, per fortuna, allora l'idea che noi scongeliamo delle dosi di vaccino, le prepariamo pronte per essere inoculate, e poi di cento persone che si erano prenotate, ne arrivano cinquanta, e le altre cinquanta, cioè a me mi piange il cuore, mi si strazia il cuore l'idea, allora si chiama chi è disponibile. Si chiama chi è disponibile a farlo, perché ci sono quelli che sono disponibili. E' come se ci sono persone che hanno molta paura e che non riescono a superare questo sospetto, e si sta verificando in particolare in questo frangente di questa pandemia. C'è questa sensazione che tutto quello che accade deve avere per forza un sottotesto, che io devo guardare con sospetto. Ah, ma allora perché? Allora l'EMA giornalmente, quotidianamente, ritira dei lotti di farmaci perché c'è stata una segnalazione. Non è detto che poi ci sia una correlazione. E comunque, filosoficamente parlando, la relazione di causa-effetto è una gabbia, perché non è sempre così cristallina. è nell'ordine delle cose, per chi si occupa di farmaci, è nell'ordine delle cose che l'EMA ritiri, qualunque cosa, anche la cossigenata a volte, perché poi dopo di che si ripristina. Quindi tutto questo malessere che sento serpeggiare, questa paura, questo sospetto, cioè combattiamolo, perché se no non usciamo più. E' l'unica via, la vaccinazione, è l'unica via. Diciamo, è una società che ha delle reazioni un po' isteriche delle volte, no? E questo, lei ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione. Ma è una reazione isterica che probabilmente è indotta dall'eccessivo flusso di informazioni che non siamo in grado di processare. Prima qualcuno diceva, si leggono solo i titoli. E' vero, è vero, perché io bazzico ai social perché previa dei libri, leggo un titolo, poi vado a leggere l'articolo e a volte il titolo è per enfatizzare qualcosa che è nascosto nel testo. Ma i commenti si fermano al titolo. Non nessuno più le... Ma perché? Non perché siamo diventati improvvisamente tutti cattivi, stupidi, ignoranti, perché abbiamo un flusso continuo di informazioni che non siamo in grado di processare. E' troppo, troppo. Bene, tra l'altro in genere nei giornali le querele arrivano proprio per errori nei titoli, perché chi fa il titolo a volte non ha scritto l'articolo e viceversa, quindi sono titoli sballati ed è su quello che si fa poi, si viene così processati per diffamazione, quando la diffamazione c'è. Allora, vediamo i baristi, molti dicono, beh, io, noi come baristi, se potessimo, vaccineremmo tutti i nostri dipendenti così non avremo più problemi e potremmo stare aperti. Sentiamo cosa dico. Non possiamo più permetterci il lusso di avere persone non vaccinate, soprattutto dopo che stamattina il Comitato Tecnico Scientifico ha detto anche se uno è vaccinato ed è a contatto con uno, con il virus, deve fare la quarantena. Noi non possiamo permetterci di chiudere le nostre aziende o mettere in quarantena le persone. No, devono essere tutti vaccinati, altrimenti si cambia lavoro, si lavora da casa. Io, baristi che possono lavorare da casa, non li trovo. Così Maurizio Molea, titolare di tre attività di bar e ristorazione a Vicenza e 20 dipendenti. A due mesi dall'avvio della campagna vaccinale, è imperativo l'urgenza di vaccinare più persone nel minor tempo possibile, dosi disponibili permettendo prioritariamente per tutte quelle attività in relazione con il pubblico. Tra le ipotesi organizzative in discussione, anche la diversificazione dell'offerta vaccinale in luoghi diversi da quelli sanitari, come gli ambienti di lavoro. Erano già oltre 4.000 ieri le aziende a livello nazionale che hanno dato disponibilità. Se io domani mattina potessi comprare i vaccini per i miei dipendenti, mette a disposizione un ambulatorio qualsiasi e portali tutti a vaccinare, l'avrei già fatto. Dovrebbero darci la possibilità di poter vaccinare i nostri collaboratori. Ossia renderci quasi responsabili, siamo sostituti d'imposto e siamo sostituti anche della sanità. Io porto i miei collaboratori a vaccinarsi. Libero mercato dovrebbe essere questo. E se un suo dipendente si rifiutasse? Mi dispiace con il cuore a pezzi, ma direi trovaci un altro lavoro o un altro datore di lavoro. Io non posso permettermi certi lussi. Servizio di Daniele Carbini. Allora, Diego Cancian, fratelli d'Italia, ovviamente l'unico partito all'opposizione. Draghi è abbastanza sottotiro. Prima si diceva che Conte parlava troppo, pontificava troppo. Adesso si dice che Mario Draghi non parla abbastanza. Insomma, non si è mai contenti. Quindi, rispetto al governo, lei cosa pensa sul versante della lotta al Covid? E sui ristori anche, vorrei dire. Anche perché si sta parlando di ristori messi a punta. Secondo me è cambiato abbastanza poco. Però, insomma, è una cosa che vedremo anche un po' più avanti. E' chiaro che prendere in mano una situazione non è facile rovesciarla per raddrizzarla, no? Però, specialmente quando è tanto storta, però insomma mi pare che la linea sia stata sempre quella e continua ad essere quella. Io condivido il discorso che faceva prima Conte. Io non capisco perché si debba avere come priorità gli ultraottantenni e che sono quelli che possono rimanere a casa, che quindi possono essere tutelati, che possono essere gestiti e tutto il mondo lavorativo invece deve morire. Ma non morire perché prende il Covid, morire perché morirà economicamente. Voi provate a pensare in questo anno qualsiasi attività che aveva aperto da un anno o due e che cominciava a lavorare, che fine farà? Cioè nel momento in cui finirà questa pandemia, finiranno il blocco dei licenziamenti, provate a pensare quante persone saranno a casa, quanta gente rimarrà a casa perché non ha potuto lavorare e perché gli hanno impedito di lavorare per tutelare forse delle persone che in realtà potevano rimanere a casa. E non abbiamo pensato a niente di tutto questo. Allora, io ho una suocera che ha una certa età, quindi so cosa vuol dire avere degli anziani, ma so anche che se la teniamo a casa e la tuteliamo è molto difficile che lei prenda il Covid, è molto più facile che la prenda mio figlio che lavora in qualche laboratorio o mio nipote che lavora in qualche hotel. Cioè è questa la cosa che secondo me è folle. Quello che ha fatto oggi la Gelmini con il presidente della regione del Friuli Venezia Giulia è una cosa che andava fatta subito, subito andava fatta. Cioè a noi come imprenditori ti fanno fare il controllore per gli infortuni e per la preparazione degli infortuni, il controllore per l'evasione delle tasse, il sostituto d'imposta, il controllore per qualsiasi cosa tu faccia o dica e questa cosa che era necessaria, no, la gestiscono loro in questo modo qui, poi che oltretutto è uno dei modi, a mio avviso, completamente sbagliato. E' chiaro che il vaccino è la formula, non dico definitiva, perché questa sarà una maledetta influenza, ma è comunque gestita come un virus che ritornerà ogni due anni, ogni anno in maniera più lieve, più forte, ormai è in circolo, quindi probabilmente farà la stessa fine dell'influenza dell'asiatica, della giapponese, della cinese, di qualsiasi altra cosa. Quindi dovremo conviverci, avere il vaccino, cosa facciamo? Passiamo la nostra vita con le mascherine e con il resto, dobbiamo immunizzarci e il vaccino è la soluzione più logica, più semplice e più giusta. Ma se mettere in moto l'apparato burocratico italiano ci vuole tutto questo tempo, io non riesco a capire come l'Inghilterra può aver fatto 20 milioni di vaccini, o li tirano con le fionde e con le freccette e si vaccinano al volo passando, o c'è qualcosa che non va nelle quelle dosi che abbiamo noi o in quelle che non abbiamo e che non siamo in grado di fare. Quindi io spero che il generale dia una visione militaresca dell'organizzazione, perché ne abbiamo sicuramente bisogno e spero anche che ci sia un cambio di visione perché, ripeto, e magari molti non lo condivideranno, ma forse va cambiato il nostro obiettivo su chi tutelare immediatamente e ricominciare a vivere e a far vivere, e a far vivere, perché fra un anno forse avremo sconfitto il Covid e avremo i psicologi e i psichiatri che faranno i quadrupli turni per riuscire a gestire le situazioni che stiamo creando con queste cose qui, perché poi mi dicono che la DAD è una cosa bellissima, per chi vende i computer è bellissima, non per i ragazzi che devono andare a scuola, non per i genitori che hanno i bambini a casa e non possono andare a lavorare o devono inventarsi i nonni o devono gestire i zii, i parenti, cioè qui è il punto di partenza che è stato sbagliato e si continua a non avere il coraggio di affrontare le proprie responsabilità. Governare, fare politica significa assumersi delle responsabilità per gestire le persone e far sì che le cose migliorino e che la gente stia meglio. Se non sai fare questo e hai paura di assumerti le responsabilità, vuol dire che non devi governare ma non devi neanche fare politica e purtroppo in Italia questa è una delle cose maggiori che abbiamo. Tant'è che, e qui poi me la prendo non con lei ma con la sua categoria, l'apertura di tutti i Tg, dei notiziari, della trasmissione anche che parla del cane o dell'eproto, parla di Covid, di vaccini, di AstraZeneca e di qualsiasi altra cosa e poi le dicono eh ma le persone hanno paura di vaccinarsi. Cazzo lo state terrorizzando per forza hanno paura di vaccinarsi. Diamo dati che siano veri. Tant'è che poi il finale è che quei quattro poveri medici o infermieri che hanno avuto la sfiga di avere un paziente che è stato male e che è morto sono indagati per omicidio colposo. Cioè, siamo arrivati all'assurdo di questa cosa qua. Ma la prima cosa che è stata fatta in Italia è indagare per omicidio colposo le persone che hanno iniettato il vaccino a quelli che hanno avuto il problema. Su questo, diciamo, sul terrorismo mediatico ha ragione, salvo che di questi tempi è anche difficile parlare d'altro. Oggi ho inserito l'autonomia ma oggi possiamo parlare di Biden che dice che Putin è un killer. Questa è una notizia grossa. Ha cercato di uccidere anche Navalny, la replica di Mosca, un attacco alla Russia ha ritirato l'ambasciatore. Questa passa quasi in secondo piano. Sì, ormai, diciamo, nella gerarchia delle notizie questa è diventata una notizia. E se permetti un secondo collis perché quando ero con l'Elisabetta Gardini con il linguaggio dei segni abbiamo veramente tentato in tutti i modi di riuscire a fare qualcosa e la Gardini si è spesa veramente molto, molto. Tant'è che abbiamo portato anche delle delegazioni con delle scuole di Padova o di altre su in Europa perché ci sono due europarlamentari uno ungherese e una olandese se non ricordo male che sono... Sordi. Sordi, esatto. Perché mi veniva sordo muti e ogni volta veniva un ripreso e diceva no, sono sordi e basta, non sono muti. E' davvero questo. E io che ho accompagnato i ragazzi sordi in quell'esperienza su in Europa a visitare devo dire che in quei due o tre giorni ho capito veramente la difficoltà di cosa vuol dire perché per me qua erano tutti ragazzi di 18 anni quindi molto vivaci mi veniva normale dirgli Antonio vieni qua ma Antonio vieni qua che non mi sente lo devi rincorrere prenderlo, farti vedere cioè è veramente una cosa e non riconoscere queste cose è da un paese non del terzo mondo è un paese incivile assolutamente allora poi c'era Vottero che voleva intervenire vediamo prima gli esercenti che dicono sì se volete teniamo chiuso ma dateci nuove regole e fateci e fateci in qualche modo lavorare vediamo nuove indicazioni per cercare di arginare il diffondersi dei contagi così l'Istituto Superiore di Sanità il Ministero della Salute e l'Agenzia del Farmaco hanno reso noto alcune raccomandazioni tenuto presente che i dispositivi di sicurezza vanno tenuti rigorosamente soprattutto in maniera corretta perché sono l'unico modo che abbiamo per contrastare il dilagare delle varianti fra le indicazioni quella di rispettare la quarantena anche per chi è stato vaccinato si è avuto contatto con un positivo al coronavirus vaccino invece in una sola dose dopo un periodo variabile tra i 3 e 6 mesi dalla malattia per chi ha già contratto il covid a meno che non sia immunodepresso non solo ma sarebbe opportuno mantenere i due metri di distanza anziché uno mentre si mangia e si beve insomma un consiglio a bar e ristoranti la risposta arriva dalla vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi noi sicuramente ci adatteremo a tutto quanto e saremo anche pronti a qualsiasi tipo di regola da rispettare pur di aprire nuovamente una categoria la loro sicuramente fra le più penalizzate con apertura e chiusura a singhiozzo ormai da oltre un anno è un settore che ha vissuto un anno veramente difficile che vive anche un presente molto difficile c'è da dire che tante strutture sono un po' in difficoltà da affrontare questo tipo di regolamento perché tante strutture anche per quanto riguarda Treviso Centro sono strutture molto piccole molto anche difficili da riorganizzare ma pur di aprire sono pronti ad adeguarsi nuovamente certo dice hanno bisogno anche del sostegno dell'amministrazione comunale quando le strutture non consentiranno faremo con l'aiuto del comune chiederemo più spazio e ci allargheremo riempiremo la città di tavolini e sarà più semplice rispettare anche le regole che ci vengono imposte servizio di Daniela Sezia Bottero voleva dire prima si parlava del problema di organizzare le vaccinazioni guardate il problema non sono quelli che fanno la puntura il problema è che in Italia come diceva prima anche Diego ha il medico che ha fatto l'iniezione responsabile penalmente di tutto quello che succede che nei paesi civili non c'è perché c'è l'obbligo il medico sta facendo quello che gli ordina lo Stato in una pandemia secondo tu prima di farti il vaccino prima di fare il tampone devi firmare la carta per la privacy quella perché ti prendi tu la responsabilità e non loro sono prese per i fondelli uno che si presenta a fare la vaccinazione vuol dire che vuol farsela e poi la legge dice che non bisogna dare in giro i dati personali basta cosa stiamo a firmare le carte e sempre fa scopa con le altre due carte inutili che abbiamo noi la dichiarazione dell'antimafia quanti mafiosi ci hanno preso con l'antimafia e ogni posto devi fare la dichiarazione antimafia io adesso esco adesso io esco da casa per andare al lavoro per andare a fare delle cose diciamo che devo fare non mi ferma nessuno perché devo scrivere una carta che non si legge nessuno scrivendo che devo venire da Baciale a fare una trasmissione se mi fermano mi chiedono glielo dico e poi devono comunque capire se è vero o no ma se io l'ho scritto cos'è che cambia? ho perso tiro giù una foresta perché devo stampare queste carte qua e ho scritto delle cose che se poi non vanno a verificarle non vuol dire niente un mio amico l'altro giorno l'ha postato perché stava in aeroporto doveva andare alle Canarie perché abita lì e dice per che motivi va? dice per lavoro e dice che lavoro fa? dice sono il CEO della BlackRock per chi lo capisce è la più grossa multinazionale americana e dice va bene cioè siamo il paese delle carte dobbiamo fare le punture no è carta le punture Conte? Norizio Conte? si beh si parla appunto di prevenzione e soprattutto di intervenire in maniera strutturata forse questo periodo non l'abbiamo sfruttato per garantire anche nell'ambito sanitario interventi di un certo tipo sappiamo cosa vuol dire la reazione all'interno di una sala operatoria di un ambiente che dovrebbe essere sanificato che dovrebbe garantire appunto un certo tipo di garanzia sotto l'aspetto anche dei contagi ma questo l'abbiamo visto anche già prima del coronavirus quanti operati all'interno delle strutture sanitarie purtroppo hanno preso dei virus e questo dipende dalla sanificazione dei canali dell'aria purtroppo direttore non mi sembra che anche in Veneto sia stato o fatto un intervento strutturato e di sanificazione di quello che sono gli ambienti sanitari dal pronto soccorso l'areazione si deposita all'interno dei canali di areazione una infinità di batteri e di virus serve quindi anche qua sfruttare le nuove tecnologie abbiamo strumentazioni tecnologie che garantiscono la sanificazione dell'aria adesso ce ne sono parecchi che stanno proponendo appunto anche ionizzatori che attraggono e sanificano e eliminano quelle che sono batteri e virus all'interno dell'ambiente dell'aria nelle scuole sono questi gli interventi qualche sindaco è stato bravo ha acquistato ad esempio questo tipo di sanificatori li ha messi all'interno delle scuole e ha dato un segnale di attenzione dovremmo fare in maniera che li hanno chiusi la scuola no no sono state chiuse altre scuole adesso adesso li hanno chiusi la scuola ma bisogna appunto capire che in questo momento dobbiamo anche investire in nuove tecnologie e soprattutto anche garantire che nell'ambito delle strutture sanitarie ci sia quella garanzia che purtroppo non c'era già prima e quindi investire su quelle che possono essere strutture anche a livello territoriale perché poi c'è l'altro aspetto dobbiamo puntare su una medicina territoriale che garantisca servizi più possibili di filtraggio rispetto a quello che è la grande struttura sanitaria abbiamo visto quale è stato nella prima fase un problema di inquinamento di contagio all'interno delle strutture sanitarie perché non c'è stato un filtro qui dobbiamo potenziare la sanità territoriale ambulatori medici di base che diano veramente un supporto alla sanità pubblica scusa posso dire solo al volo perché adesso il TARA ha riconosciuto il fatto che i medici di base fanno bene a prescrivere immediatamente l'antinfiammatorio ed eventualmente l'antibiotico ai pazienti che sono ammalati di covid io ho fatto il covid ho fatto così e dopo dieci giorni ero a posto e non ho avuto il problema allora quello che non capisco è come può una procedura sanitaria ordinare che ci sia la tranquillamente l'attesa che il virus si manifesti in forma molto significativa prima di fare qualcosa io questa è una cosa che non penso sia né in cielo né in terra però abbiamo avuto Sosminski di Conegliano di Santa Lucia è un esempio ma abbiamo avuto centinaia di medici che hanno fatto così e non hanno perso un paziente è chiaro che se io aspetto di avere la polmonite che va avanti e poi vado in ospedale è chiaro che in tasso gli ospedali come diceva però è stato superato questo scoglio per cui si può procedere anche in questo in questo senso allora vediamo il caso di Vicenza a proposito di scuole nonostante la zona rossa sono state rieperte le scuole comunali dell'infanzia per 362 bambini vediamo il caso di Vicenza zona rossa la scuola chiude anzi no non tutta la regola della didattica a distanza è confermata ma con un'eccezione nelle scuole dell'infanzia comunali di Vicenza infatti è stata data la possibilità ai bambini con disabilità di tornare in classe noi andiamo ad accogliere ma soprattutto ad includere bambini con qualche disabilità che abbiamo regolarmente frequentanti tutto l'anno nelle scuole matanne comunali sono circa 30 e 26 hanno accettato di buon grado e richiesto di poter frequentare così in 13 scuole comunali dell'infanzia a Vicenza 26 bambini con qualche disabilità tornano a frequentare e non da soli ma con altri gruppetti di bambini della stessa sezione che a rotazione potranno anche loro continuare la loro attività con le maestre ora vanno a scuola circa 100 alunni la settimana prossima altri 100 la settimana dopo altri 100 il dato comune è che comunque i bambini con qualche difficoltà potranno andare a scuola tutti i giorni a questi bambini viene assicurata accoglienza inclusione e anche continuità con l'itere educativo una risposta importante anche per le famiglie dove papà e mamma lavorano e oggi il prefetto di Vicenza ha confermato al sindaco anche la possibilità per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori di uscire di casa in deroga al limite previsto della vicinanza alla propria abitazione le scuole comunali materne si sono organizzate per poter permettere i bambini e le bambine con disabilità di poter andare a scuola insieme a qualche loro compagno è una richiesta che è stata presentata direttamente dalle famiglie con ragazzi disabili e dall'associazione anche di questi familiari il prefetto oggi ha anche confermato al sindaco che le persone che accompagnano che assistono un loro familiare disabile possono in deroga ai 200 metri poter uscire di casa ovviamente muniti di autocertificazione servizio di Carlo Alberto Inghilleri ringraziamo ancora Chiara Sipione che è sempre tra le interpreti del punto stampa questa sera qui a Focus grazie alla dottoressa Rita Sala lei prima diceva manca un riconoscimento che tipo di riconoscimento ha auspicato cioè ci dovrebbe essere un albo delle interpreti dovrebbe essere in qualche modo codificato il lavoro allora il riconoscimento della professione passa anche attraverso una formazione riconosciuta quindi l'obiettivo anche della nostra associazione di Anios è che la professione arrivi sempre di più in ambito accademico dove si formano i professionisti noi abbiamo una legge 4 del 2013 che riconosce le professioni che non hanno un albo parlare di albo in questo momento dove ormai li stanno un po' non togliendo non ha molto senso ha senso un riconoscimento della professione che vuol dire un riconoscimento della qualità del percorso della delicatezza in cui noi ci troviamo a lavorare tenendo conto che è una libera professione e che non può essere equiparata a un'idea di volontariato molto spesso accade perché quando si lavora con le persone disabili perché le persone sorde rientrano in questa categoria si fa molto anche si chiede un po' di aiuto perché è un momento complicato perché dobbiamo stare vicini perché lavoriamo nel sociale certo però prima si parlava di bollette di tasse di cose queste fanno parte del gioco anche perché dimostra anche la statistica di cui abbiamo parlato prima c'è una garanzia di qualità professionale di istruzione che ha bisogno di una contropartita anche economica si chiama lavoro si chiama professione e attraverso di noi emerge anche una struttura della società che molto spesso è cosiddetta invisibile noi sordi ne parlava lei prima ma noi certo diamo accessibilità adesso Chiara sta dando accessibilità a quanto sta avvenendo in trasmissione ma noi diamo anche accessibilità al contrario permettiamo a chi sente di entrare in un mondo quello delle persone sorde che ha tantissimo da dare abbiamo parlamentari europei sordi abbiamo docenti universitari sordi abbiamo avvocati abbiamo e perché non dare anche a loro la possibilità di esprimersi nella modalità da loro scelta può essere l'italiano può essere la lingua dei segni nella libertà di poter scegliere come comunicare avendo una lingua riconosciuta aspettiamo anche questo riconoscimento e attraverso il nostro lavoro poter far vedere qual è il valore che le persone sorde possono dare alla comunità perché esiste è un grande valore non è solo quello del ci insegnano ci danno perché stare vicino un disabile non è questo il valore è proprio il contributo che le persone sorde possono dare alla società i sottotitoli sono utili a tutti l'avere un interprete a scuola o un assistente alla comunicazione non aiuta solo il bambino sordo ma aiuta la classe permette di far vedere che esiste un altro modo di stare al mondo è un modo che usa gli occhi che usa le mani che usa il corpo e che comunica che in questo momento vive una grande difficoltà che deve essere presa in carico da noi non si può dire alle persone sorde mettetevi la mascherina trasparente o darla alle persone sorde perché diciamo che nella comunicazione le persone sorde sono dei campioni da sempre hanno dovuto barcamenarsi in un mondo che non ha mai capito molto spesso come interagire con loro quindi lo smartphone ne ha aiutati molto lo smartphone la vita è cambiata dagli anni 90 in poi perché la tecnologia assolutamente è di grande aiuto quello che si diceva anche prima quindi quello che diceva prima il consigliere comunale Luciani cioè la tecnologia ci sta aiutando però c'è ancora quest'idea che il sordo vale se parla bene gli si chiede di di sentire infatti si parla molto spesso di non udenti che è un termine che sapete un non davanti a un nome è qualcosa come se uno mi dicesse non uomo esiste un termine che è donna esiste un termine che è sordo non più sordo muto giustamente c'è una legge del 2006 italiana la 95 che elimina il termine sordo muto quindi anche per non vedenti che non piace c'è chi c'è l'essenza chiamateci c'è chi si perché è il mettere il non è sottolineare una mancanza è non un'entità la comunità sorda si ritrova attorno un'identità un modo di stare al mondo che vive di occhi e di mani e che vuole partecipare perché c'è chi dice che la lingua dei segni gli ghettizzi ma esattamente il contrario se uno volesse ghettizzarsi chi glielo fa fare insegnarla non è nemmeno unica la lingua dei segni no la lingua dei segni è una lingua naturale quindi c'è quella italiana c'è quella tedesca c'è quella francese americana ci sono le varianti locali è un mondo che sta mettendo anche in discussione tante teorie linguistiche perché parte da tutti gli altri presupposti quindi è un mondo affascinante che la comunità sorda ci sta dando ci sta chiedendo usiamola non vogliamo ghettizzarci attraverso la lingua ma vogliamo essere parte di questa società attraverso questa lingua quando avremo l'autonomia in Veneto faremo anche la legge per i segni ma guardi la legge regionale c'è già basterebbe solo applicare un po' di più diciamo che dobbiamo giocare un po' sul bilancio allora andiamo adesso salutiamo anche Anna Maria Bigon del Partito Democratico buonasera in consiglio regionale grazie grazie Bigon per essere con noi buonasera grazie mille di l'invito mi pare che sia ancora collegato anche alle Luciani se può restare volentieri Luciani se può restare ancora grazie ho ancora una decina di minuti ma vi seguo ancora volentieri va benissimo allora vediamo intanto i disturbi alimentari dovuti dal lockdown in questo servizio della nostra redazione di Padova guarda qua il cibo da sempre è considerato un bene rifugio spiegano gli psicologi con il cibo si sviluppa un rapporto affettivo ma in molti casi può essere conflittuale e purtroppo la pandemia tra i suoi mille effetti negativi ha avuto un ruolo pesante nell'accentuare la manifestazione dei disturbi alimentari lo stress e l'ansia per la situazione il lockdown e ora ancora la zona rossa hanno portato molti a rifugiarsi nel cibo oppure ad evitarlo ma la pandemia ha esasperato situazioni già fragili le persone che già soffrivano di disturbi alimentari sono gravemente peggiorate in più c'era la complicazione che per esempio era difficile avvicinarsi ai servizi proprio a causa del covid e altre persone che invece non ne soffrivano si sono ammalate ulteriormente e si sono ammalate producendo dei veri e propri disturbi alimentari che poi si sono trascinati nel tempo la corsa ai supermercati per riempire le dispense durante il lockdown la convivenza forzata per i ragazzi la DAD e i lunghi periodi in casa senza valvole di sfogo hanno rappresentato un momento cruciale in cui spesso il rapporto con il cibo è stato compromesso secondo l'istituto superiore di sanità i disturbi alimentari come anoressia e bulemia sono aumentati dal 30 al 36% nell'ultimo anno e si è abbassata la fascia d'età interessata il problema è che ultimamente intanto si è ancora più abbassata la fascia di insorgenza e troviamo disturbi alimentari che riguardano anche bambine di 8-10 anni e non sono solo le donne ad essere colpite ci sono le altre due forme che sono forse meno conosciute ma che riguardano molto di più il sesso maschile che sono la vigoressia detta anche complesso diadone che è questa cosa paradossale per cui gli uomini che ne soffrono non si sentono mai abbastanza grossi abbastanza muscolosi lo troviamo molto spesso nelle palestre nella popolazione che frequenta le palestre e l'ortoressia che invece ha a che vedere con il forzare un'alimentazione nella direzione del fatto che sia salutistica assolutamente salutistica ma poi questo salutismo diventa ipersalutismo e diventa patologico servizio Valentina Vicentini dottoressa Zucca beh diciamo sono atteggiamenti e comportamenti che prescindono un po' dal lockdown siamo comunque a volte così tendiamo alla come veniva chiamata la sindrome diadone piuttosto che il voler essere per forza di cose molto sani no? Sì se posso permettermi faccio solo una precisazione rispetto a una cosa che ha detto l'ospite precedente rispetto alla salubrità lei ha nominato le sale operatorie io ci vivo quindi volevo solo precisare non entro nel merito di altre strutture che non conosco però nella mia sala nel mio ospedale posso garantire e affermare senza timore di essere smentita da nessuno che c'è una attenta e precisa e anche con grande disagio da parte mia manutenzione di tutto quello che è l'arieggiatura dell'aria sono flussi particolari la sala operatoria ha un tipo di circolazione d'aria particolare sono gradienti pressori per cui all'interno l'aria è più concentrata perché ci sono dai 200 ai 400 ricambi d'aria al minuto ogni credo 15 giorni il sabato mattina vengono i tecnici con notevole disagio da parte mia che sbuffo perché se sono in turno vuol dire che mi devo preparare i miei carrellini con tutti i ferri e andare ospite in un'altra sala se mi arriva un'urgenza quindi questo siccome ci vivo e lo so e ci tengo particolarmente perché posso garantirlo senza tema di essere smentita siccome si fa nella mia sala non vedo perché non si debba fare anche il pronto soccorso per esempio se questa è la consuetudine del mio ospedale anche sui reparti stessi io garantisco per quello di cui sono certa ma essendo la mia sala all'interno dell'ospedale di Treviso se questa è la prassi la buona regola vuol dire che anche negli altri reparti si esegue la stessa buona regola non entro nel merito di altre strutture perché non le conosco e quindi in genere cerco di parlare di quello che conosco bene e questo lo conosco bene quindi ci vivo è la mia casa e mi risento di meno se mi dicono che ho la casa in disordine piuttosto che avere la sala operatoria in disordine perché la sala operatoria è proprio il mio luogo ecco oltre che di lavoro anche di è la mia identità ci vivo da una vita quindi posso avere la cucina in disordine ma la sala operatoria questo era solo perché non era una polemica era perché ci vivo e quindi so come funziona sicuramente ci sono realtà di un certo tipo io parlo per l'ospedale di Previso perché è quello che da 30 anni mi vede quindi parlo a ragion veduta di qualcosa che è una buona prassi riguardo a traumi da covid anche psicologici si parla tanto di bambini ma anche sono bambini ragazzi per la questione d'ade eccetera la clausura però anche anche gli adulti questo è qualcosa che mi fa molta paura mi fa molta paura perché temo temo che quando questa cosa finirà perché finirà noi ne usciremo perché alla fine questo covid se ne andrà come se ne sono andate altre cose riusciremo perché poi siamo capaci di grandi cose adesso al di là del pessimismo che serpeggia questa cosa che deve andare sempre tutto male adesso la cosa dei vaccini si sbloccherà se la regione Veneto dice che noi faremo tot 500 mila lo faremo perché io l'ho visto cos'è in grado di fare la sanità veneta lo so cosa può fare e lo può fare quindi noi nel Veneto ma in tutta Italia lo faremo ne usciremo quello che mi fa più paura è come ne usciremo con le ossarotte probabilmente al di là dell'aspetto economico che poi non ho titolo per parlarne perché non sono preparati in materia sono più mi sento più di parlare dal punto di vista psicologico e sociale ne usciremo con le ossarotte ne usciremo pieni di malattie dermatologiche mai viste ragazzi e ragazze che perdono i capelli che non avevamo mai visto prima manifestazioni patologiche del comportamento come quelle che diceva la dottoressa varie sindrome alimentari si mangia troppo si mangia troppo poco si vuole mangiare assolutamente perfetto che è la rincorsa al salutismo ottimale che è la stessa cosa di cercare il rischio zero non esiste sono delle età che si sono esacerbate con questa chiusura forzata questa sorta viviamo anche la mancanza di attività fisica chi andava in palestra non può andare in palestra è diventato sempre più difficile anche in zona rossa c'è chi ha dubbi di vado a correre sotto casa posso andare a un chilometro l'uomo è un animale politico è lo zoon politico di Aristotele noi non possiamo fare a meno siamo rapporti che si rapportano noi non possiamo fare a meno dell'altro perché la nostra identità passa per il rapporto che abbiamo con le altre persone questo da un anno è molto complicato molto difficile la mia paura è che l'abitudine la famosa abitudine aristotelica no? quella che Aristotele così diceva è facilissimo prendere delle abitudini buone ma anche cattive la mia paura è che questa mancanza di socialità non diventi una sorta di aberrante normalità adesso faccio un esempio che mi riguarda sono venuta qua questa sera e mi sono sentita quasi a disagio perché dovevo uscire di sera avevo mi sentivo quasi strana io sono una persona che sono sempre uscita non ho mai avuto problemi sono reperibile di notte mi chiamano vado prendo la macchina parto vado a presentare libri mi muovo di sera viva Dio qualcuno mi invita anche qualche volta sempre meno ma qualcuno mi invita anche fuori stasera dopo un anno di questa situazione quasi quasi mi esitava dico caspita devo prendere la macchina dopo alle nove andare era quasi qualcosa che mi metteva in qualche disagio e sono io che sono una coriacea sono una forte cosa succede a un adolescente i ragazzi soprattutto rischiano di avere anche molte lacune molti traumi allora intanto saluto devo salutare a questo punto Alain Luciani perché poteva stare fino ad una certa ora Luciani grazie molto se vuole aggiungere fare un'ultima battuta prima di salutarci ma la battuta in realtà è un messaggio di speranza insomma che vorrei dare ai cittadini perché sono le preoccupazioni di tutti anche di me stesso per la mia famiglia insomma speriamo che si riesca finalmente a riprendere questa questa vaccinazione che si riprenda velocemente e abituiamoci insomma a dover confrontarsi poi in realtà di anno in anno con questo virus che pare appunto buttare per cui senza grandi difficoltà di ritornare tutti quanti a vivere insomma di poter ritornare nei ristoranti nel cinema magari negli stadi quindi ricominciare a vivere e purtroppo l'unico modo che abbiamo è quello che oggi la scienza consegna questo battito per cui ecco cerchiamo di rimanere uniti in questa battaglia se non altro perché ne deve per noi per i nostri figli e per le nostre famiglie tutte quindi ecco un abbraccio a tutte e quante le persone che a casa oggettivamente sono in difficoltà e sentono pesantemente sia la paura del virus ma anche del loro futuro grazie grazie a lei Luciani a presto buon lavoro Luciani grazie molto diamo il titolo del fatto quotidiano sale la curva di ricoveri e ingressi in intensiva oltre 23 mila nuovi contagi 481 vittime la Russia richiama l'ambasciatore Washington tensione per le parole di Biden Putin assassino allora grazie ad Anna Maria Bigon consigliere regionale del partito democratico che qualcuno dice ma insomma c'è finalmente una luce in fondo in fondo al tunnel adesso se arrivano i vaccini si procederà senza tregua prima o poi insomma c'è chi dice prima dell'estate 70% ha detto oggi la van der Leyen ha detto il 70% degli europei saranno vaccinati pensa che andrà così o è una diciamo una previsione troppo ottimistica ma io spero che sia veramente così anche perché la van der Leyen ha detto anche un'altra frase ha detto che se l'Inghilterra comunque non vieta la fornitura o impedisce la fornitura di vaccini sicuramente ci saranno anche delle ritorsioni sotto l'aspetto dell'export per cui da una parte c'è quella pressione da parte dell'Europa di avere un numero maggiore di vaccini e ne abbiamo assolutamente bisogno dall'altra abbiamo visto il governo che quantomeno mette mette gli strumenti per cercare di formare o mettere a disposizione il personale per fare le vaccinazioni perché noi abbiamo bisogno anche di questo per cui tra farmacisti medici specializzanti a partire dal primo anno e insomma avremo anche tantissime persone disponibili Anna Maria si può spostare per favore un po' alla sua destra un po' alla sua destra perché se no abbiamo un'inquadratura ecco benissimo così va bene benissimo grazie dicevo che insomma il governo si sta mettendo le basi per preparare quantomeno tutto il personale in modo tale da essere pronto nel momento in cui arrivano tutti questi vaccini o quantomeno una quantità maggiore di quella che finora è arrivata parlano di settembre io credo che nel momento in cui ragioniamo magari un'indennità un'immunità di greggia del 70 80% anche se parlano del 90% quantomeno come minimo sicuramente metteremo il nostro paese in sicurezza però non abbiamo altra soluzione che fare le vaccinazioni adesso questa sospensione di 2-3 giorni dovuta all'accertamento e sul nesso di causalità tra le morti e la causa appunto e l'iniezione del vaccino io spero che finisca il più presto possibile in modo tale da già da domani ripartire a farli perché credo che non abbiamo altro 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 da fare che non le vaccinazioni e infatti domani arriva la risposta del lema sul fatto che molti rinunciano hanno rinunciato almeno in questa fase a farsi vaccinare per paura di effetti collaterali lei come la vede come la pensa l'informazione non è stata secondo me molto corretta nel senso che da una parte sappiamo perfettamente tutti che i milioni di vaccini fatti circa 17 e quei casi pur importanti ci mancherebbe la sospensione sicuramente è stata magari dovuta per fare accertamenti quindi credo che sia doverosa anche se già tanti esperti si sono pronunciati nel dire che non ci sarà sicuramente nessun nesso anzi probabilmente le trombosi che sono state cause di morte sono una delle cause di morti all'interno soprattutto per quanto riguarda le donne e probabilmente non c'è nessun nesso con il vaccino la gente ha preso paura tra l'altro noi abbiamo anche una forte presenza di Novax e questo ha causato anche magari altre perplessità in altre persone io credo che dobbiamo vaccinarsi assolutamente dobbiamo farlo il più presto possibile anche perché vediamo quanti in cassa e quanti ne abbiamo oggi in rianimazione e quanti morti ci sono stati in Italia per Covid eh sì allora poi torniamo da lei grazie per ora Bigonna allora vediamo intanto un titolo del Corriere del Veneto AstraZeneca Crisanti Andrea Crisanti lo stop reazione di panico reazione di panico della della politica Fabrizio non so se abbiamo dato gli asili in presenza il servizio da da vice sì li abbiamo dati scusa vi pazienza diamo allora sui contagi quello che ha detto dal ben questa mattina i nostri microfoni cioè sulla la questione dei contagi che sono purtroppo in forte aumento vediamo quasi 9000 padovani positivi al Covid 19 nel territorio provinciale che ha una popolazione di 930 mila persone preoccupano però i ricoveri in ospedale a Padova in costante aumento attualmente abbiamo ricoverato in ospedale 167 persone 94 in area non critica quindi in area medica 37 nell'area delle semi intensive e 36 nell'area delle intensive per quanto riguarda la capienza dobbiamo sempre tenere presente che l'ospedale è una struttura che si adatta via via ai bisogni delle persone quindi noi siamo in grado di aprire nuovi posti letto nelle varie aree di cura in base alle necessità con un'età media dei ricoverati nei reparti e nelle terapie intensive che si è improvvisamente abbassata sono persone che hanno di media tra i 60 e i 70 anni a seconda appunto dell'area ospedaliera che occupano può dipendere dal fatto che per esempio tutta la popolazione anziana delle case di riposo è stata vaccinata e quindi non notiamo più il grande anziano presente in ospedale c'è una spiegazione logica al dato numerico di contagiati in provincia di Padova molto superiore che nelle altre province venete Dalben dice che l'università sta studiando la causa possiamo anche dire o pensare che magari la provincia di Padova è in questa fase un po' più avanti rispetto alle altre province venete e che quindi la speranza è che la curva cali prima delle altre province venete ma se dai tamponi eseguiti in azienda emerge un 8% di positivi in linea con la media regionale perché a Padova stanno aumentando i contagi e i ricoveri in ospedale è chiaro che i positivi che noi riscontriamo probabilmente hanno dei quadri clinici più pesanti rispetto ad altre zone della regione in sostanza ecco io penso che sia un po' questo che fa anche un po' la differenza per quanto riguarda la presenza di notevoli persone all'interno del nostro ospedale da ricoverati e ricoverati con quadri importanti servizio di Guido Barabatto dobbiamo andare in pubblicità mi pare tra quanto Fabrizio tra un minuto con la pubblicità che spacca il secondo vediamo vediamo Draghi Spia su Dago Spia il sito di Roberto D'Agostino Draghi Spia passano i giorni e a Draghi sorge il dubbio che lo stanno prendendo per il sedere certo che dopo tanti anni passati in Bacchitalia la BCE prendere la scena del teatrino della politica non sarebbe stato un compito facile per questo si è valso dei buoni consigli di Giuliano Amato è arrivato Franco Gabrielli eccetera eccetera è difficile il percorso di Mario Draghi in questa fase ha rivoluzionato il CTS più che altro ha spostato molte pedine è rimasto anzi ha assunto un maggior potere Giorgio Palù virologo come sapete Veneto e altri sono usciti di scena ma vediamo se ci sarà una riforma vera e propria tra poco con la pubblicità e ci vediamo tra pochissimo va bene siamo in diretta con Focus 2249 grazie ancora a Chiara a Chiara Sippione all'Agnos rappresentata da Rita Sala questa sera per avere fatto da interprete dall'inizio della puntata quindi dando modo ai nostri amici sordi di seguire questo programma speriamo di poter fare altre puntate ma certo è un impegno di non poco conto e quindi veramente siamo molto grati a queste interpreti che hanno anche il delicato ruolo di fare le interpreti in una conferenza stampa che devo dire deve essere difficilissimo interpretare perché i giornalisti le domande le risposte insomma è veramente un lavoro trovo molto delicato e molto faticoso tanto mi viene in mente lo dico a Leopoldo Bottero che ha viaggiato per il mondo quando sono andato in Libia ai tempi dei Gheddafi ci siamo accorti di una cosa che noi facevamo le domande gli interpreti facevano altre domande a Gheddafi che rispondevano che rispondeva con altre risposte insomma alla fine non si capiva assolutamente nulla di quello che aveva tipicamente medio orientale l'importante era confonderci le idee e riuscivano ci riuscivano sempre senta Canciano a proposito che confone le idee di chiarezza e di comprensione anche della politica lei del governo Draghi da questo punto di vista cioè il rapporto adesso con la comunicazione rispetto al governo Conte il fatto che sia più sobrio che non parli se non in circostanze molto importanti i primi provvedimenti presi così un po' nelle retrovie lei come la come la valuta insomma fondamentalmente l'opera del governo adesso ma per via della comunicazione per fortuna che c'è stato un cambio perché veramente ne avevo diciamo che ne avevo abbastanza di Conte e delle sue comunicazioni poi che non ho mai capito questa cosa magari qualcuno poi me la spiegherà perché sembra che lavorassero solo sabato e domenica perché durante la settimana si sentiva poco poi sabato e domenica facevano conferenze stampa comunicazioni decreti di PCM li facevano tutti sabato notte la domenica notte forse volevano dimostrarci che lavoravano per forza tanto ma non lo so e per quanto riguarda l'operato del governo Draghi ripeto l'ho detto prima non mi pare che sia cambiato molto per il bene che voglio l'Italia spero che sia per il poco tempo in cui c'è ho paura invece che sia per la troppa confusione che c'è nel governo ma non confusione nelle idee di Draghi o nelle idee di qualcuno io penso che in questo governo tutti abbiano le idee molto chiare il problema è che non sono la stessa idea il problema è che non sono idee che coincidono il problema è che non sono forse gli stessi obiettivi perché continuo a pensare che l'idea del PD con quelle di Salvini non vadano proprio tanto d'accordo che l'idea di Grilini con quelle di Forza Italia non sia lo stesso obiettivo ma per una questione di partito di politica e di mentalità se poi tutto questo porterà alla salvezza dell'Italia è una nazione più forte più dinamica più ricca io ne sono solo contento ho tanti dubbi tanti tanti dubbi e non posso farci niente lei lavora è un imprenditore edile quindi diciamo ha a che fare con un settore di cui si parla poco purtroppo se non quando improvvisamente magari riparte poi alti e bassi adesso l'edilizia in che situazione si trova guardi l'edilizia in qualche modo non si capisce perché però è diventata quasi autosufficiente cioè si sta autoalimentando con ristrutturazioni con opere nuove con situazioni abbastanza intensiche ci sono stati anni in cui sono morte un sacco di aziende e quindi probabilmente adesso il lavoro che c'è diventa di più perché ci sono anche meno aziende a svolgerlo io vorrei conoscere tanto chi ha progettato quella idiozia fenomenale del 110% proprio lo vorrei conoscere personalmente magari anche in privato così gli spiego esattamente quello che penso di lui e perché dunque è un anno chiedo l'aiuto di Maurizio ma un anno è qualcosa che cambiano norma continuamente l'hanno lanciata a febbraio marzo poco prima del covid ed è un anno che ogni mese cambiano qualcosa di quella norma a mia conoscenza a tutt'oggi di lavori del 110% con l'accessione del credito alle aziende finanziarie che ci sono e che le stanno chiedendo sono partiti lavori zero zero in compenso hanno incassato un sacco di soldi in tutti gli adeguamenti e le messe a norma tra i piani comunali e catastali di tutti gli appartamenti dei condomini per la paretina spostata della villetta che aveva fatto la muretta un po' più alta perché per accedere al 110% tu devi essere in regola perfettamente con tutto quindi l'unica cosa certa è che in questo momento le famiglie hanno speso 3, 4, 5, 6 7 mila euro tra professionisti e sanzioni e questo in tutta Italia o perlomeno nell'Italia in cui si fanno queste cose per poi passare a 110% e quindi avere le opere in questo momento zero io mi chiedo ma lo faccio proprio così perché sono un deficiente quindi ogni tanto ho queste idee che mi passano per la testa ma non era più semplice dire la detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico la portiamo all'85% e la detraiamo in 5 anni non era forse più semplice non è che si sarebbero aperti molti più cantieri non è che perché quando hanno annunciato il 110% due mesi prima avevano annunciato il bonus facciate al 90% con l'annuncio del 110% l'unico risultato ottenuto è che hanno bloccato immediatamente tutti i cantieri che stavano facendo il 65% e il 90% quindi secondo me solo uno che gioca a flipper non che fa il ministro può avere queste idee però adesso torniamo da Maurizio Conte intanto però vediamo l'ACC nel bellunese un'manifestazione dei lavoratori che simbolicamente hanno portato un camion carico di motori fino all'electrolux di Susegana perché sono due aziende legate ovviamente per competenza e professionalità vediamo noi oggi abbiamo fatto una consegna simbolica compressore a chilometro zero a dimostrazione siamo scesi insieme al camion in 45 minuti un'ora eravamo qui a dimostrazione di cosa vuol dire la filiera corta sono trascorsi pochi minuti dopo le 11.30 quando un camion carico di compressori rilascia lo stabilimento ACC di Borgo Valbelluna direzione Electrolux a Susegana e a scortarlo ci sono le RSU e i segretari dei sindacati di categoria provinciale l'ennesima giornata di mobilitazione stavolta con un obiettivo esaltare il legame non solo territoriale ma di competenza e di professionalità con i lavoratori trevigiani che da decenni fanno parte della storia di ACC il clima a Borgo Valbelluna è pesante la nostra fatica è indescrivibile ogni giorno ogni giorno ci chiediamo se c'è qualcosa sia in negativo che in positivo e non abbiamo mai nessuna risposta noi ci siamo trovati a un certo punto che non c'era più nessuno ad amministrare l'azienda siamo stati noi operai a mandare avanti il tutto continuando a venire a lavorare credo che questo sia anche un modo significativo di testimoniare la volontà di difendere la cultura pratica della gente veneta un carico di lavoro e di speranza in una situazione paradossale che vede ACC in bilico nonostante le commesse da record un'azienda che ha budget il 38% in più di produzione dello scorso anno un'azienda che a gennaio ha assunto 15 persone 15 nuovi dipendenti e a marzo rischia di chiudere io l'ho definito personalmente un omicidio noi chiediamo l'attivazione di Italcon perché Italcon perché è una promessa fatta dal governo è una soluzione trovata calibrata studiata in minimi particolari ora è il tempo che qualcuno la metta anche in pratica la solidarietà dei lavoratori di Electrolux è stata esemplare per noi è essenziale continuare a produrre con motori e con motori prodotti qui in Italia vicini di qualità che diano una risposta ai lavoratori e la continuità occupazionale con i lavoratori l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan non possiamo pensare che non si trovino le risorse finanziarie che non si trovino gli strumenti normativi per accompagnare ACC verso la sua prosecuzione magari il progetto ambizioso di un compressore tutto italiano chilometro zero gli appelli si moltiplicano noi chiediamo la ripresa di un intervento pubblico in economia che noi reputiamo necessario necessario di fronte all'evidenza dei fatti da Roma la vicinanza del ministro Federico Dincada 15 mesi a fianco dei lavoratori e del progetto Italcomp che rassicura si risolverà a breve è importantissimo che anche il sistema bancario riconosca gli sforzi fatti dal governo per trovare delle soluzioni importanti e in qualche maniera si metta a disposizione perché ogni risorsa ogni milione di euro sono risorse importantissime per continuare questa progettazione nuova ministro Federico Dincada servizio di Tiziana Bolognani Maurizio Conte paradossale perché insomma ci sono gli ordini ma è un'azienda che può andare avanti ma no ma è il rischio che stanno avendo tante aziende italiane e soprattutto anche venete che vedono molto spesso acquisizioni da parte di multinazionali società estere che hanno l'obiettivo solamente di prendere in mano il marchio per poi chiudere la produzione perché questa è l'evidenza di una situazione siamo ormai un paese da colonizzare sotto l'aspetto economico e produttivo e quelle eccellenze che abbiamo invece dobbiamo difenderle se una attività se una società se un'impresa sta andando male forse è meglio pensare a una riorganizzazione anche di investimento da parte del governo ma coinvolgendo i dipendenti perché abbiamo visto molto spesso soprattutto in Veneto la possibilità di diventare soci dell'azienda partecipare con una cooperativa di operari che lavorano all'interno è forse la maniera più conveniente per salvare un'impresa metti di fronte a un'opportunità nuova i dipendenti che possono diventare anche piccoli imprenditori loro stessi cambiare completamente anche una filosofia di aggregazione interna e diventare un'opportunità penso sia questa ma anche spero che anche l'assessore Donazzan possa mettere in atto un'azione di questo tipo in maniera forte anche a livello normativo l'altro aspetto che volevo evidenziare in questo momento di appunto vaccinazioni di rischio appunto del contagio cosa abbiamo perso perdendo la leva perdendo l'obbligo di andare a fare il militare non era solo perdere un anno perché sicuramente magari qualcuno poteva pensarlo in maniera diversa e andare a lavorare prima o continuare a studiare senza interrompere gli studi ma cosa serviva a fare il militare innanzitutto avevi un controllo a una certa età di una situazione di una appunto realtà giovanile che potevi trovare soprattutto delle malattie che adesso te ne accorgi troppo tardi soprattutto sulla fertilità ma io mi ricordo che mi hanno fatto tre punture sul petto vuol dire che mi hanno vaccinato che mi hanno comunque temprato e sapevamo tutti che qualcuno aveva la febbre qualcuno aveva reazioni diverse ma era una maniera per garantire una società che doveva crescere e doveva però anche controllare quelle che erano le fasce di età e tornavamo a casa buomina e comunque facevo un'esperienza di un certo tipo anche che non era un anno di tempo perso l'altro aspetto torniamo all'autonomia io spero che Zaia porti la sua conferenza stampa a Roma vada a Roma faccia la conferenza stampa a mezzogiorno che serve per dare tutte le informazioni ma vada là a iniziare veramente a fare una pressione importante sotto l'aspetto dell'autonomia perché l'autonomia e do ragione a Bottero che mi vede che ha detto prima al di là dell'appartenenza politica chi è Veneto deve pensare appunto di portare a casa per il Veneto poi chi è Lombardo ognuno porta a casa per il proprio territorio ma questo è il ruolo che devono avere tutti i rappresentanti politici all'interno delle istituzioni in particolare i nostri parlamentari veneti che al di là da destra a sinistra verdi gialli o rossi devono capire che c'è necessità di dare una risposta in prima di tutto a quel referendum che sono passati 1242 giorni ma soprattutto perché è l'unico sistema per dare responsabilità al territorio alle regioni a chi è più vicino ai cittadini per dare delle risposte che potrebbe essere stata sicuramente anche più facilità aver facilitato di più ad esempio anche gli interventi dei nostri sindaci amministratori locali per dare delle risposte e soprattutto che dovranno dare delle risposte a livello sociale e economico a delle realtà dirette nei propri comuni che hanno bisogno appunto anche di un percorso di accompagnamento l'autonomia servirà a questo io spero che i parlamentari facciano un gruppo trasversale trasversale io gli sfiderei che facesse un gruppo interpartitico che vadano invece a creare quell'intergruppo che deve difendere il Veneto e l'autonomia del Veneto parlamentari finora hanno fatto pochissimo leopodo votero tanti scettici come per i vaccini non so i no-vax io ho piacere perché meno ce ne sono prima lo fanno a me se uno vuole morire pensate che quello che ha sequestrato i 400.000 vaccini perché forse uno si è sentito male mettiamo che sia morto i morti li ha fatti perché 400.000 persone per due settimane non si fanno il vaccino e là che saranno i morti e si possono calcolare cioè la scemenza che poi noi siamo in mano ai giudici che hanno condannato AstraZeneca prima di giudicarla prima di valutare quando ci sono fiori di autoriti che prendono delle decisioni amministrative velocemente l'hanno ritirato per due o tre giorni rifanno i conti lo mollano lo ritirano guardate che oggi sentivo il fondatore della Guido Negri che diceva guardate che l'aspirina che si compra normalmente provoca un sacco di emorragie intestinali no? cioè ma veramente pericolosa molti non lo sanno di più di qualsiasi vaccino senta sull'autonomia c'è rischio rassegnazione no 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 la cosa sta crescendo lentamente ma cresce perché se lei si ricorda cinque anni fa eravamo qua eravamo quattro gatti che parlavano di autonomia e venivamo sbeffeggiati soprattutto dalla sinistra io vengo dalla sinistra oggi come vedete i valori come vi ha detto noi a suo tempo della destra e della sinistra quelli che sono buoni sono passati cioè oggi Conte adesso volevo diciamo per scassi il compagno Conte ha detto facciamo il socialismo nelle fabbriche applichiamo i principi che la Germania applica da sempre perché in tutti i consigli di amministrazione in Germania sono presenti i lavoratori e quindi quando hanno un problema lo sanno qual è qua quando vendiamo una fabbrica all'estero sapete che avete venduto il lavoro quando vendiamo un'azienda io mi ricordo ancora molti anni fa la Teletra grande azienda di telecomunicazioni venduta ai francesi chiusa perché hanno preso il mercato allora bisogna difendere a livello politico mi ricordo che ero in Francia tentavano delle partecipazioni nelle aziende francesi non si può allora bisogna difendere l'italianità o la località di certe cose io non sono nazionalista per carità ho la visione europea ma uguale per tutti cioè se tu compri un'azienda produci qua quello che compra la Pernigotti che la porta in Turchia e ragazzi uno ha speso i soldi se la porta dove vuole la mità che ha comprato a Taranto ha comprato per chiudere perché la produzione la fa in India che gli costa meno qua ha comprato i cinesi ha comprato per fare i motori in Italia ma mica scemmi loro cioè qui bisogna avere una politica industriale poi Dinkal giustamente è un bravo ragazzo ma forse anche lui viene da un campo allora le fabbriche le banche devono pensarsi ma se ce le siamo fottute le banche abbiamo lasciato che se le portassero via che ci hanno comprato la banca di Vicenza e la banca Veneta per un euro e ricordo a tutti che io ne ho offerto 10 un giorno qualcuno mi risponderà ce li ho anche adesso possiamo arrivare anche a 50 euro a banca 50 e 50 mettiamo 100 euro ma sì perché allora ci hanno preso per i fondelli ci hanno preso i soldi adesso c'è le banche devono essere sensibili le banche sono un'azienda anche Diego è sensibilissimo fammi una casa gratis che ho bisogno uno farà i suoi conti è il governo è la politica che deve dare queste risposte qua ora se i soldi fossero spesi qua se ci fosse potere a livello locale certe cose non succederebbero poi chi non vuole chi non vuole questa cosa dell'autonomia l'abbiamo capito è chi ha degli interessi inconfessabili perché se noi spendiamo tot soldi pro capite per la sanità in Veneto tot soldi pro capite in tutta Italia e abbiamo fatto i conti una volta erano 60 miliardi di risparmi quando spendono tutti i soldi che spendono per la sanità in Calabria e i calabresi i poracci devono correre qui perché un calabrese paga le tasse come noi in teoria poi quando ha qualcosa deve spendere quello che spendiamo noi più la trasferta e l'albergo vi pare giusto c'è qualcosa che non va e va risolto non si può dire che va bene che qualcuno non fa il bilancio Diego non sta a fare il bilancio quest'anno cosa ti succede? il mio insomma il mio torte quello della sanità la sanità della Calabria fa il bilancio orale tramandato ma pigliamoci è come costituzione allora sono tante cose che non vanno ma sono semplici scusate se mi dilungo ma questo è il paese che deve penso che la Chiara faccia una sintesi non so se riesce a fare a intervento e non ho usato parole difficili Chiara perché l'altro giorno la Chiara ogni tanto basta che dica che hanno ragione che abbiamo ragione noi Allora andiamo vediamo ho ricordato l'ipno erotomachia polifili non so se si può tradurre vediamo le misure le misure del prefetto di Treviso c'è stato un tavolo tecnico per fare in modo che nel weekend soprattutto e in vista anche della Pasqua ci siano dei controlli molto rigorosi sentiamo il prefetto Maria Teresa Laganà ci preoccupa molto il fatto che essendo bloccate essendo sospese tutte le attività proprio in quei giorni ci possa essere una sorta di fuga verso i luoghi diciamo di deputati alle passeggiate a quant'altro abbiamo ribadito la necessità che vengano intensificati i controlli che peraltro ci sono già vengono rimodulati in relazione appunto a quelli che sono i divieti in particolare i divieti che scatteranno anche nei giorni di Pasqua e di Pasquetta e ecco diciamo così la parola d'ordine è tolleranza zero per gli assembramenti dalla restera di Treviso alle colline del Prosecco sorvegliati speciali luoghi dello svago e della passeggiata ora che i centri storici con le chiusure imposte dalla zona rossa si sono svuotati nessuna tolleranza contro gli assembramenti annuncia il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà ad un anno dallo scoppio della pandemia e alla vigilia del periodo pasquale il nuovo comitato per l'ordine e la sicurezza rimette al centro le regole e promette polso duro su questo evidentemente le forze dell'ordine vigileranno in maniera assolutamente assidua circa la lettera arrivata ai suoi uffici da genitori che chiedono l'apertura delle scuole per i più piccoli il prefetto non lascia alcuno spiraglio di possibilità confermando la necessità del sacrificio che l'intero paese sta facendo c'è molto fermento mamme che scrivono sindaci che vorrebbero aprire gli asili nido ecco l'anno scorso ricordo che eravamo tutti compatti contro il nemico alcune fughe in avanti che si cerca di fare anche nel mondo della scuola specialmente degli asili e quant'altro non si possono evidentemente accettare i ragazzi che già soffrono certamente del periodo bisognerebbe anche come dire dalla sensazione di un sacrificio necessario nel pomeriggio in prefettura si è tenuto l'incontro con i vertici del trasporto pubblico e le scuole trevigiane per rimettere sul tavolo orari di lavoratori che sono ancora in presenza e corse in un'ottica di un maggior efficientamento del servizio servizio di Anna De Roberto allora torniamo da Anna Maria Vigon in consiglio regionale per il Partito Democratico ovviamente il turismo Vigon ne parliamo spesso è in una crisi profonda adesso l'Europa sta studiando un passaporto vaccinale che dovrebbe consentire a chi si è vaccinato in particolare ma a chi si è negativizzato di spostarsi e quindi di poter andare nei paesi come il nostro che hanno fame di visitatori soprattutto quest'estate si spera che arrivino allora è vero e so che anche tanti la pensano in modo diverso e che sono contrari a questo passaporto vaccinale ecco io sono a favore nel senso che credo dobbiamo tutti fare attenzione tra l'altro questa non è una malattia ma è proprio una pandemia che poi tra l'altro si trasmette ad altre persone per cui dobbiamo fare assolutamente attenzione tra l'altro finché non troviamo la possibilità di vaccinarsi veramente quasi tutti abbiamo queste varianti e le stiamo inseguendo varianti che sono abbastanza pericolose e quindi non possiamo permetterci visto che c'è una mobilità molto forte tra i paesi insomma tra aerei treni eccetera quindi questa velocità proprio del movimento deve essere fatta in sicurezza non possiamo assolutamente permetterci ma questo verrà fatto a livello appunto europeo per cui tutti i paesi saranno messi nelle stesse condizioni non solo per l'Italia certo senta ma adesso quando si fa vaccino non viene scritto nel tesserino sì ma non è diciamo non è un passaporto vaccinale risulti vaccinato ma non ha valore se vai alla frontiera non te lo guarda neanche ma se tu vai in Africa e ti fai l'antitifica basta che esibisci il tesserino però per il momento non è che non abbia valore senta come va consiglio regionale la minoranza insomma rispetto alla maggioranza bulgara vi state vi state attivando sui vari fronti ieri abbiamo discusso il piano regionale di resistenza e resilienza abbiamo fatto alla fine poi tra l'altro approvato una risoluzione insieme la maggioranza ha approvato anche la nostra con qualche modifica dove cerchiamo insieme a quello che loro avevano presentato di portare a Roma tutti quelli che potranno essere le progettazioni validi per ottenere dei fondi fondi europei di cui stiamo veramente attendendo con molta forza che arrivino anche in Veneto noi ne abbiamo assolutamente la necessità sentivo prima tutte le crisi che abbiamo per l'economia turismo economia ma anche riformare la sanità sanità di territorio quindi tutte somme che saranno veramente necessarie e le progettazioni che verranno presentate dovranno essere in linea con gli indirizzi dell'Europa e ovviamente l'indirizzo del piano nazionale di resistenza e resilienza e quindi tutelare l'ambiente investire per i prossimi anni per quanto riguarda appunto non solo una transizione verde ma anche demografica perché in Veneto abbiamo anche un problema che è enorme che è quello della denatalità per cui dovremo puntare sui servizi asili nido scuole materne scuole elementari ristrutturazione una sanità ovviamente del futuro pubblica per quanto riguarda l'ammodernamento delle strutture e poi tutto quello che riguarda aria acqua tutela dell'inquinamento abbassamento del PM10 e quindi tutela dell'ambiente in genere e trasporto soprattutto su ferro deve essere triste attraversare Venezia per arrivare al ferro fini in una città ancora completamente deserta veramente una città in ginocchio sì in ginocchio io credo che dovremmo subito partire con una progettazione per quanto riguarda il rilancio del turismo appena otteniamo quantomeno la possibilità di essere quasi tutti vaccinati quindi l'immunità di gregge bisogna veramente rilanciare il turismo abbiamo una cultura dei musei il Veneto è un museo sia per quanto riguarda l'ambiente che per quanto riguarda le nostre città storiche d'arte piene d'arte per cui dobbiamo assolutamente rilanciarlo in modo tale che ci riapriamo il mondo creando posti di lavoro e nel rilancio dell'economia di cui abbiamo veramente bisogno sentivo prima però direttore parlare delle scuole materne asili nido guardi allora io sono convinta e sa sono sempre stata a favore delle zone russe quantomeno delle restrizioni finché non abbiamo una vaccinazione questo perché penso che la tutela della salute sia vada di pari passo con la tutela dell'economia non ci può essere l'una senza l'altra è vero anche che però a diversità dei marzo noi adesso abbiamo gli insegnanti che sono vaccinati o quasi tutti vaccinati per cui magari l'asilo nido la scuola materna dove vediamo che i casi sono veramente pochi potrebbero essere a supporto delle famiglie ancora aperte o quantomeno valutarlo ecco abbiamo gli insegnanti vaccinati questa è una differenza abbastanza importante rispetto all'anno scorso certo allora è arrivato a Bergamo per celebrare la giornata del ricordo delle vittime del coronavirus l'enorme cuore posto sulla facciata del comune di Vo Euganeo vediamo l'enorme cuore ricamato ad un cinetto che svettava sulla facciata del comune di Vo ha viaggiato fino a Bergamo come a tracciare un invisibile filo che lega le due città simbolo dell'emergenza pandemica l'enorme cuore ricamato a mano evoluto dalla Deleo Found Onlus di Padova è stato issato sulla facciata del palazzo della ragione in piazza vecchia in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus che si celebrerà il 18 marzo a un anno esatto dalla notte in cui i bergamaschi e il mondo intero hanno visto sfilare per strada i camion dell'esercito carichi di bare diretti in altre città un'immagine che resterà per sempre nell'immaginario collettivo e a maggior ragione nella storia della città che ha pagato il prezzo di vite più alto nella prima ondata a rendere omaggio alle vittime ci sarà anche il presidente del consiglio Mario Draghi esatto domani Mario Draghi a Bergamo allora abbiamo ancora due minuti prima di un altro stacco e poi ci dovremo salutare Giovanna Zucca altri libri in cantiere dopo dopo si sto completando il terzo episodio della serie di cui spero giusto per rilanciare il turismo di vedere girata una serie che è ambientata tra Venezia Padova Verona con qualche incursione ad Asolo e so che c'erano delle trattative prima di questa terrificante pandemia che ha guastato tante cose tra cui nel mio piccolo anche la mia sono saltate tutte le presentazioni un disastro per gli scrittori un disastro si era molto avanti e adesso spero che si riprenda a fronte di altre serie che sono state anche molto belle girate in altri luoghi d'Italia mi piacerebbe che facessero una fiction dalle mie che sono dei gialli un po' umoristici un po' divertenti ambientati come dicevo tra Padova Venezia e altri luoghi del Veneto per cui potrebbe essere anche un'occasione per far vedere il nostro territorio secondo me vedrà che ci riuscirà vedremo anche quella film commission con il direttore Jacopo Chessa se riusciremo a fare qualcosa proprio per portare delle fiction delle produzioni importanti anche qui in Veneto oltre diciamo ai grandi film ai grandi set che arrivano in genere dall'estero ma anche dal nostro territorio allora dobbiamo andare un breve stacchetto pubblicitario di quelli che spaccano il secondo poi torniamo in pratica per i saluti a tra poco grazie allora di nuovo in diretta siamo agli sgoccioli ormai grazie per centinaia di sms whatsapp che avete mandato come sempre tutta la puntata tradotta da Chiara Sipione davvero la ringraziamo molto ringraziamo rappresentante dell'Agnos la dottoressa Vita Sala che è docente docente di cultura sorda no no cultura dei sordi all'università di Cafusca di Venezia e nei corsi interpreti di formatrice ecco senta c'è la formazione di cui lei parlava insomma come la si può in qualche modo però incentivare aumentare allora torniamo sul fattore che il riconoscimento della lingua dei segni darebbe una sferzata a tutta una serie di altre questioni a livello accademico ci sono stati corsi di lingua dei segni un po' in tante università atenei italiani diciamo che Cafuscari è stata la capofila perché c'è una laurea etnale da moltissimi anni e da quest'anno anche una laurea magistrale in interpretazione altra università Catania con sede ragusa che ha ultimato la triennale lingua dei segni certo è che c'è bisogno di più input più input nel vedere un'opportunità alla lingua dei segni e non un tra virgolette un nemico a volte sembra sembra che sia come un nemico non so perché spaventa perché la lingua dei segni fa emergere una mancanza cioè chi usa la lingua dei segni è perché o è sordo o ha a che fare con la persona sorda e questo spaventa ancora perché viene chiamata la disabilità invisibile e lo è non si vede noi camminiamo per strada non ci rendiamo conto se una persona è sorda e con la sordità c'è anche un'idea quel sordo muto quel se non parla non capisce se non sente non sa che crea una specie di stigma e da lì il rischio è poi di quindi di voler normalizzare una cosa perché l'apparenza permette di non far vedere una mancanza che viene vista come appunto non c'è qualcosa e invece no la sordità è un modo di stare al mondo diverso che usa gli occhi usa il corpo usa una lingua anzi due perché tutte le persone sorde segnanti cioè che usano la lingua dei segni sono bilingue perché hanno l'italiano a scuola in ufficio nel quotidiano e la lingua dei segni quindi con un input al bilinguismo che è fondamentale anche per una crescita proprio cognitiva psicologica quindi è una lingua dei segni che si sta usando anche per altre questioni non la usano solo le persone sorde la usano con persone che hanno delle difficoltà di linguaggio si sta usando e sperimentando anche con malati di alzheimer o con altre malattie perché potrebbe bypassare bypassa alcuni cortocircuiti che fa il cervello quindi ecafuscaris questo sta facendo molta ricerca cioè è una lingua è una lingua fantastica e che porta anche a una professione come questa che è una professione valida molto interessante e che merita di stare nell'accademia che poi la cosa strana è che il popolo che parla con le mani perché gli italiani parlano con le mani rifiuta la lingua di insegni è una cosa è il grande contrasto italiano i gesti possono usare i tipi ma i sordi come si dice i gada parlare benissimo allora dobbiamo chiudere intanto ringrazio Chiara Sipione per aver fatto da interprete questa questa puntata speriamo di averla ancora ringrazio Anna Maria Bigonna del partito democratico grazie a presto Bigonna grazie tanto grazie grazie per l'invito buonasera a tutti grazie a Chiara grazie molte Leopoldo Bottero patto per l'autonomia arrivederci arrivederci a tutti e ricordatevi autonomia è ambiente cercatelo e domani e dopodomani anzi venerdì e sabato sarà interessante ascoltare questo convegno bene grazie a Diego Calcian grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi Maurizio Conte Forza Italia buonanotte grazie a tutti dottoressa Rita Sala grazie molto dottoressa Giovanna Zucca grazie grazie e ottimismo perché ce la faremo certo ha fatto bene a lanciare questo messaggio Chiara Sipione di nuovo grazie moltissimo che sta dicendo che avevo ragione io facciamo un applauso così le facciamo un applauso chiaro questo me la ricordiamo complimenti facciamo un bel applauso complimenti e ovviamente torneremo anche domani parleremo ancora di autonomia volevo sottolineare l'importanza del ruolo delle interpreti della Lissa nel punto stampa del governatore Zaia che peraltro oggi è arrivato a 78% di gradimento è il primo dei governatori più amati prima di Bonaccini e poi vengono vengono ovviamente gli altri e credo che un contributo determinante in questo consenso sia dovuto al fatto che tutti i giorni il presidente è lì e grazie anche alla lingua dei segni anche le persone sorde possono avere tutti i particolari dettagli numeri di questa pagina tremenda per ora tremenda della nostra storia che prima o poi volteremo più prima che poi grazie alle vaccinazioni buonanotte a tutti grazie arrivederci arrivederci a tutti